Come di consueto la prima parte dei nostri lavori è dedicata alle interrogazioni a risposta immediata a consiglio giunta. Oggi primo consigliere prenotato, la vedo già pronta, consigliera Paglialunga, interrogazione per l'assessore Campora. Si richiedono informazioni in merito alla sospensione e all'eventuale ripristino del servizio AMT Volabus di collegamento tra la stazione Brignole e l'aeroporto Cristoforo Colombo. A lei la parola consigliera Paglialunga per l'illustrazione. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno Assessore. Questo articolo 54 nasce a seguito di numerose segnalazioni relative alla sospensione del servizio AMT di collegamento tra la stazione Brignole e Principe e l'aeroporto Cristoforo Colombo. Il servizio Volabus è sempre stato considerato un importante collegamento che permetteva sia ai pendolari, ai cittadini che ai turisti di arrivare alla stazione in poco tempo. Le prime corse iniziavano alle 5 del mattino e terminavano a mezzanotte e mezza, quindi permettendo la coincidenza con qualsiasi aereo in partenza e in arrivo. Con l'avvento del Covid questo servizio è stato sospeso in data 18 marzo 2020 e ad oggi non mi risulta ancora ripristinato. L'unico servizio attualmente attivo è il Flybus che collega l'aeroporto alla stazione di Genova Sestri, purtroppo però non è paragonabile con quello che c'era prima perché bisogna attendere la coincidenza con i treni regionali e quindi allunga notevolmente il viaggio dei cittadini. Oltretutto gli orari sono più ristretti perché mi risultano dalle 6 del mattino fino alle 22. Le chiedo pertanto quali sono le intenzioni dell'amministrazione in merito al servizio appena citato. Grazie. Grazie consigliera Paglialunga. Assessore Campo, prego, lei la parola. Grazie presidente, grazie consigliera Paglialunga. Allora in relazione alla sua interrogazione, effettivamente come lei diceva il volabus è stato sospeso dal 18 marzo 2020 a seguito del lockdown causato dalla pandemia che aveva portato ad una tale sospensione, quasi azzeramento di quello che era il traffico aeroportuale. Successivamente anche ad oggi l'aeroporto sta progressivamente riprendendo in parte i volumi che erano già presenti prima della pandemia e per questo negli scorsi mesi non è stato ancora riattivato perché i numeri comunque di passeggeri erano particolarmente limitati. Quindi è stato fatto un ragionamento di ordine anche di sostenibilità del servizio ed è rimasto attivo il servizio Genova Air Link che come lei diceva effettua comunque un intervento diverso. Air Link è in servizio dalle sale 22 con una frequenza di 15 minuti però le posso dire che abbiamo un costante rapporto anche con la direzione dell'aeroporto per monitorare il traffico ed è intenzione comunque di andare a ripristinare questo servizio io conto entro l'anno o in corso. In modo tale da poter ripristinare un servizio che era sicuramente apprezzato e utile per gli utenti dell'aeroporto. Grazie Assessore Campora, c'è replica consigliera Paglialunga? Prego, hai la parola. Velocissima, solo per ringraziare l'assessore. È un'ottima notizia per gli utenti quella del ripristino soprattutto se arriva così breve termine. Grazie. Grazie a lei. Passiamo alla successiva interrogazione proposta dal consigliere Terrile che vedo già pronto, sempre per l'assessore Campora. Si chiedono le ragioni per cui nonostante le previsioni di crescita indicate nel piano industriale aziendale e le rassicurazioni ricevute dalla Giunta e dal maneggiamento di Amio. Il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti registrato in Comune di Genova nell'anno 2020 si è fermato al 35,43% per fino in callo sull'anno 2019. Si chiede inoltre se corrisponde al vero che Regione Liguria abbia chiesto il pagamento al Comune di Genova nella somma di euro 778.767,99 euro al titolo di ecotassa in relazione al tasso di riciclaggio e recupero registrato nell'anno 2020. Venti, a lei la parola consigliere Terrile. Grazie Presidente, grazie Assessore. L'interrogazione la potremmo rubricare il fallimento della raccolta differenziata nella nostra città perché dai dati che sono disponibili sul sito della Regione Liguria risulterebbe, ma ovviamente richiedo conferma all'assessore Campora, che il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti per l'anno 2020 si è fermato al 35,43%. Siamo ad un tasso addirittura inferiore rispetto a quello del 2019 che aveva chiuso al 35,52%. Comunque ricordo che il tasso del 2017, quindi all'inizio della giunta Bucci, era del 34,22%. Quindi vuol dire che in quattro anni la raccolta differenziata nella nostra città è aumentata di 1,21%, quindi di un punto percentuale. E questo nonostante le promesse. Bucci nel 2017 aveva promesso di portare la raccolta differenziata al 60% in un anno, ma queste sono parole, il sindaco ne dice tante. Ma ci sono poi degli atti. Il piano industriale di Amiu, approvato il primo febbraio del 2018, prevedeva il raggiungimento della quota di legge, quindi della quota del 65%, entro il 2020. Eppure il 2020 è finito e non solo non siamo arrivati al 65%, ma non ci siamo mossi da quel 35% che avevamo già sostanzialmente nel 2017. Quindi siamo fermi. Allora, l'interrogazione è, la domanda è, ma quali sono le ragioni per cui, nonostante le promesse, i piani industriali, i piani industriali che cambiano e che portano sempre in avanti l'ultimo piano industriale, dice che nel 2024 raggiungeremo il 65%, ma ovviamente non c'è nessun dato intermedio, quindi non c'è nessuna promessa, nessun obiettivo sul 2021, nessuno sul 2022. Quindi poi questo piano industriale sarà destinato come il precedente, nel 2024 diremmo cosa raggiungiamo nel 2028. Come mai, nonostante gli investimenti fatti anche in comunicazione e non solo, dall'azienda e dal comune, il livello della raccolta differenziata è fermo, è sostanzialmente addirittura decresce? E la seconda domanda è quanto ci costa? Perché ci risulterebbe, ma anche di questo chiedo conferma, che Regione Liguria abbia applicato proprio al comune di Genova per il mancato raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti dalla legge regionale, la multa di 778.767 euro. Una multa che peraltro è inconsiderevole aumento rispetto alle multe degli anni passati, cioè la raccolta differenziata non cresce, però cresce la multa che deve pagare il comune. Molta che era 488.000 euro nel 2019, un po' di più di 500.000 nel 2020, e ora arriviamo a 778.000 euro. Allora, la domanda è, ma stiamo andando nella direzione giusta? Cioè, questi dati sono, i dati che pubblica Regione Liguria sono veri? Oppure invece, come dire, il comune di Genova ha in mano degli altri dati molto più ottimisti, che ci vengono sbandierati ogni volta che parliamo di rifiuti, ma che invece non corrispondono alla realtà? Assessore Campora, hai la parola per la risposta. Prego. Grazie. Partiamo dall'ultimo dato, che è il dato di novembre, che è un dato che è superiore al 38%. Però, quando si guardano i numeri, bisogna analizzarli. E bisogna fare riferimento agli anni, 2019 e 2020. Allora, nel 2020 c'è stata la chiusura di quasi tutte le attività commerciali, e questo è un anno che non può essere preso di riferimento, perché in tutta Italia la chiusura delle attività commerciali ha determinato meno cartone, ha determinato meno vetro, quindi ha determinato comunque un calo della differenziata, diciamo, un po' in tutto il territorio, con una causa ben precisa. Così come, successivamente al crollo del Ponte Morandi, la perdita delle aree, la perdita dell'isola ecologica, ha determinato una situazione di grande difficoltà. Quindi ci sono delle ragioni sicuramente per le quali i numeri sono numeri diversi da quelli che erano ipotizzati, ma abbiamo delle motivazioni ben chiare. Nel contempo vi è un elemento particolarmente importante, che sono gli investimenti. Tanto la differenziata la fanno i cittadini, e quindi utilizziamo anche questo spazio, utilizzando anche la sua interrogazione, richiamando i cittadini a fare la differenziata, perché la differenziata la fanno i cittadini, e quindi ci vuole una crescita anche dal punto di vista dell'educazione ambientale. Poi vi è un altro elemento, che è l'elemento degli investimenti. Nel 2017 abbiamo ereditato una società che non aveva neppure i soldi per pagare gli stipendi. Oggi siamo arrivati, dopo circa quattro anni, ad avere una società con buoni conti, e una società che ha investito 60 milioni di euro, e partirà a febbraio, finalmente, dopo decenni, con la sostituzione di tutti i cassonetti intelligenti e tutti i mezzi. Questo sicuramente aiuterà anche la crescita differenziata, ma allo scattolo devono fare i cittadini, e quindi è utile la sua interrogazione, proprio perché dobbiamo ricordare a tutti i cittadini che la differenziata va fatta, e quando entrerà con il nuovo sistema anche la tariffa puntuale, chi non farà la differenziata pagherà la tariffa molto più alta. Nel corso degli anni noi abbiamo ricevuto diversi, diciamo, abbiamo ricevuto anche contributi, anche dalla Regione, per interventi che abbiamo utilizzato sul Genovesato, l'abbiamo utilizzato anche su Genova, e devo dire che qualche segnale ce l'abbiamo positivo, nel senso che non era mai accaduto negli ultimi dieci anni che Genova, ad esempio, ricevesse un riconoscimento di lega ambiente come primo comune per la plastica con Corepla. non è sufficiente, e io certamente non mi accontento del premio di Corepla, e non mi accontento del fatto che siamo la prima città in Italia per numero di ecocompattatori per la plastica. Dico ai cittadini che dobbiamo fare di più. Per la differenziata serve sicuramente, ci deve mettere del suo il comune, ma è importante l'engagement, il coinvolgimento da parte dei cittadini. Gli ultimi numeri che abbiamo ricevuto, che siamo vicini al 39%, e nel contratto di servizio vada a memoria per il 2021, mi pare sia al 40% indicato nel contratto di servizio, sono numeri che sicuramente non mi soddisfano, nel senso che bisogna andare oltre, ma sono numeri che ci fotografano una situazione che è in miglioramento. Però l'invito che facciamo a tutti i cittadini è di fare la differenziata. Grazie, Assessore Campora. Consigliere Terrine, prego, per la replica. Sì, come dire, più che una replica, non avendo ricevuto risposte, mi ritengo ovviamente insoddisfatto, nel senso che l'Assessore non mi ha confermato che il Comune di Genova dovrà pagare quest'anno la cifra di 778.767, una cifra record, però, visto che non ci informa lui, informo io i cittadini e il Consiglio Comunale, questa è la tabella di Regione Liguria, delibera di giunta regionale della fine di luglio, che appunto commina questa multa di 778.000 euro. Purtroppo tutte le previsioni che sono state fatte da questa giunta e dal management di Ammio si sono rivelate assolutamente fallaci ed errate, ma non di qualche cifra, non di qualche numero, perché chi ci aveva promesso di arrivare al 60% nel 2020, oggi ci ha parlato al 2020 al 35,43. E anche se mi verrà detto, come mi viene detto, che a novembre siamo al 38%, io mi permetto di dubitare, perché l'anno scorso, quando facevamo le commissioni, mi veniva detto che era certo un aumento della raccolta differenziata per il 2020, e il 2020 ha chiuso addirittura in discesa. Io non penso che sia colpa solo dei cittadini, io penso che ci sia una presunzione di capacità amministrativa che i numeri dimostrano non esserci. Purtroppo in questa città siamo lontanissimi dalle previsioni che voi stessi avete fatto, siamo lontanissimi dalle previsioni che voi stessi avete fatto, e questa lontananza ci porta tutti i cittadini a pagare multe per 700.000 euro quest'anno, 500.000 euro l'anno scorso, 400.000 euro l'anno passato. Denari che potrebbero essere impiegati altrimenti, e questo credo sia una grande responsabilità di cui dovreste chiedere conto, dovreste rendere conto ai cittadini. Allora, passiamo alla successiva interrogazione, il consigliere Campanello è collegato da remoto, buongiorno. Buongiorno a lei. L'evoluzione per l'assessore Picciocchi risponderà l'assessore Campora, su delega appunto l'assessore Picciocchi. Chiarimenti in merito al fatto che per molte attività commerciali non sono ancora arrivati i prospetti relativi ai bollettini di pagamento per l'Atari anno 2021. Si chiede inoltre la tempistica di quando si prevede tale invio e se si prevede un pagamento rateizzato. A lei la parola, consigliere Campanella. Sì, grazie Presidente. È correttissimo quello che abbiano letto, l'articolo 54 in effetti tratta sui prospetti di pagamento, quindi i cosiddetti bollettini, dell'Atari 2021, che sembrerebbe che non siano ancora arrivate ad alcune attività commerciali. Gli stessi commercianti si sono dichiarati un pochino preoccupati perché vorrebbero pagare nei termini e nei tempi i talitari 2021 e temono anche poi di avere successive spese per altre inconvenze da pagarsi. Quindi se arriveranno questi bollettini loro si domandano quando e soprattutto quando arriveranno si domandano ancora se è prevista a quel punto un'ipotesi di rateizzazione. E' proprio la risposta che mi saprà dare. Grazie, consigliere Campanella. Assessore Campora? Prego. Allora, in relazione all'applicazione... Grazie, presidente. Grazie, consigliere Campanella. Vado a rispondere alla sua interrogazione. In relazione all'applicazione dell'Atari per l'anno 2021 nei confronti delle utenze non domestiche, in dato 8 aprile 2021 il Consiglio Comunale con deliberazione numero 28 ha approvato le modalità e le scadenze di versamento in acconto della tassa sui rifiuti. Con tale provvedimento il Consiglio ha stabilito che il versamento a titolo di acconto Tari 2021 per le utenze non domestiche non oggetto di sospensione dell'attività da parte dei provvedimenti statali e locali a seguito dell'emergenza sanitaria in atto sia pari all'83% dell'Atari dovuta per l'anno 2020 e si è riscosso in quattro rate con scadenza 15 giugno, 15 luglio, 15 agosto, 15 settembre. Al fine di sostenere e aiutare la ripresa delle utenze non domestiche che sono stato oggetto di provvedimenti di sospensione o che hanno subito oggettiva limitazione delle attività conseguenti alle prescrizioni connesse al contenimento della diffusione del virus Covid-19 indicate nella colonna Descrizione dell'Allegato 1 della citata delibera il Consiglio Comunale ha disposto di non inviare l'acconto e di demandare a successivo provvedimento del Consiglio Comunale le modalità e le scadenze della Tari 2021. In serie di approvazione delle tariffe 2021 il Consiglio Comunale ha fissato la scadenza di versamento della saldo Tari 2021 delle utenze non domestiche al 31 dicembre del corrente anno e relativi avvisi perverranno agli utenti in tempo utile per il versamento. Sempre al fine di sostenere il tessuto socio-economico genovese e favorirne la ripresa il Consiglio Comunale come espressamente indicato nello stesso provvedimento ha ripartito l'agevolazione prevista all'articolo 6 decreto legge 25 maggio 2021 numero 73 e rifinito sostegno e bis per l'esercizio 2021 pari a 7,8 milioni tra le categorie di utenza non domestiche sulla base dei criteri che seguono. Riduzione del 50% della tariffa per le categorie maggiormente colpite nella loro attività da chiusure e restrizioni collegate al susseguirsi dei provvedimenti di contrasto alla pandemia. Azzeramento dell'aumento 2021 rispetto al 2020 per altre categorie colpite agli effetti indotti della pandemia. Per completezza si evidenza che il regolamento Tari prevede che in caso di temporanea istituzione di giuriativa difficoltà economica su motivate documentate richieste del contribuente da presentarsi entro alla scadenza del documento che si intende rateizzare al contribuente l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle soglie dovute. Grazie Assessore Campora c'è replica Consigliere Campanella? Assolutamente voglio ringraziare l'Assessore Campora per la puntuale risposta e soprattutto per il fatto che questa amministrazione sostiene il tessuto socio-economico della città. Grazie. Allora molto bene procediamo speritamente con la prossima interrogazione Consigliere Giordano per l'Assessore Campora su delega Assessore Picciocchi circa lo stato dei diadotti cittadini considerate anche le recenti notizie che hanno riportato le criticità accertate sul raccordo tra l'elicoidale e il casello autostradale di Genova Est. A lei la parola Consigliere. Grazie Presidente buongiorno Assessore insomma è indubbio che l'attenzione rispetto a quelle che sono le infrastrutture presenti nel Comune dove diciamo il crollo del Ponte Morandi ha insegnato che determinati elementi strutturali non possono essere dimenticati nella prevenzione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria di quello che sono le strutture portanti direi che la storia del Comune di Genova parte proprio sull'inizio effettuato dall'Assessore Fanghella nel lontano 2019 dove prometteva un censimento di tutti tutti i ponti e i viadotti presenti sul territorio cittadino era stato avviato un censimento era stato fare dato anche un documento che indicava diciamo l'indice di salute delle strutture nel 2021 invece si riporta su un quotidiano la lezione del crollo del Ponte Morandi tre anni dopo il crollo del Ponte Morandi non sono stati ancora diciamo completato il censimento dei ponti e dei viadotti nessuno sa in che stato si trovano gli 800.000 km di strade comunali e provinciali direi che la nostra città invece dovrebbe essere prioritario questo anche in virtù di quello che sono stati i finanziamenti proprio anche sul fondo di istituto del decreto di agosto che parla di 1,15 miliardi di euro per la manutenzione straordinaria ma parla anche di monitoraggio e rafforzamento dei piloni e altre misure antisismiche che rientrano anche nelle opere di demolizione e ricostruzione Genova ha un indice di istanziamento di 13 milioni e 300 mila euro passiamo invece alla realtà insomma al deterioramento del pilone dell'elicoidale e la caduta dei cavi della sopraelevata di 800 metri di cavi della sopraelevata dove non si capisce quali siano poi le competenze perché parlo di sopraelevata perché lei sa benissimo che nella mia esperienza professionale ci sono oltre 20 anni di vigili del fuoco nella nostra città se ogni volta che sono intervenuti i vigili del fuoco avessero chiesto 50 euro all'amministrazione comunale oggi i vigili del fuoco girerebbero tutti in elicottero non girerebbero più con i mezzi diciamo su gomma quindi insomma è una situazione reiterata chiaramente la responsabilità non ricade solo sull'ultima amministrazione ma ricade sull'ultima amministrazione per quanto riguarda invece l'evolversi della cultura della manutenzione straordinaria ordinaria di quello che insomma la nostra città tramite una tragedia epocale ha insegnato quindi io vorrei chiedere se ad oggi abbiamo una situazione diciamo dettagliata di quelle che sono le strutture presenti nel nostro territorio grazie grazie a lei consigliere Giordano assessore Camporo per la risposta prima grazie presidente grazie consigliere Giordano cercherò di darle una risposta pur nella consapevolezza che è un tema molto ampio che difficilmente può essere approfondito all'interno di un'interrogazione urgente ma confermo già la disponibilità del collega Picciocchi e degli uffici di effettuare poi magari una commissione proprio sul sul tema essendo un tema estremamente importante allora nella relazione che mi è pervenuta anche dagli uffici che si occupano appunto uffici a strade che si occupano delle manutenzioni mi viene riferito che le criticità dei vedotti stradali sono al centro dell'attenzione dell'attività dello scrivente settore fin da ormai da diversi anni quando fu anche quell'avvenimento che non accade a Genova ma che fu il crollo del cavalcavia di Lecco avvenne nel 2016 a seguito poi quindi di un'attività che è stata svolta dagli uffici nasceva anche un obiettivo proprio di PEG triennale all'interno del settore mediante il quale sono stati censiti tutti i ponti passerelli viadotti stradali cittadini è stata costituita una banca dati che costa di circa 450 manufatti di questo tipo vi inclusi alcuni impalcati a sbalzo presenti naturalmente in molte zone della città e spesso anche utilizzati per lo scavalcamento dei numerevoli corsi d'acqua che attraversano la nostra città ma anche per passare le ferrovie e tutta una serie di servizi trasportistici che abbiamo tutti i manufatti sono stati georiferiti per una facile e immediata individuazione hanno una loro descrizione quanta la forma geometrica degli elementi portanti della tipologia strutturale i materiali costituenti e sono indicati tutti i manufatti accessori presenti marciapiedi garredi ringhieri impianti di illuminazione caditoie sotto servizi aggraffati nonché se presenti cartelli di limitazione portata la banca dati costituisce un adempimento a livello 1 della conoscenza come dettato dalle norme INOP di recente istituzione in Italia con il DM430 del 2019 con le linee guida e ponti stabilisce che ogni inter pubblico deve procedere alla raccolta dei dati inerenti di tutte le proprie opere pubbliche trasferendo i dati all'archivio informatizzato nazionale delle opere pubbliche inoltre la linea guida e ponte ha introdotto tre livelli di sviluppo della conoscenza naturalmente poi occorre il tempo per andare in progress il livello 1 che è quello raggiunto dal comune di Genova che riguarda l'attività di censimento il livello 2 poi abbiamo che è l'ispezione e il livello 3 le proposte di intervento quindi questa attività l'attività di verifica che sta diciamo che sta andando avanti e che naturalmente come detto deve anche in qualche maniera compensare da diciamo poca poca attività anche di prevenzione che è stata fatta negli anni negli anni passati naturalmente gli uffici mi dicono che sono a che sono a disposizione visto poco tempo per approfondire poi magari in una commissione un tema che è considerato di prioritaria importanza dall'amministrazione grazie assessore Campora consigliere Giordano grazie assessore insomma ecco faccio una una sensibilizzazione cioè quando non c'è un assessore di competenza chiedo al presidente del consiglio eventualmente di traslare poi in un in un consiglio successivo perché con tutto rispetto verso l'assessore Campora ma ha letto praticamente in qualche cosa che invece va mi sarebbe piaciuto un po' più di contraddittoria dal punto di vista anche nel merito di quello che ho chiesto perché il censimento è partito il 2 aprile 2019 con l'assessore Pangello e poi mi rimane difficile anche riuscire a capire ma qua c'è un'indagine della procura come è possibile che i due studi commissionati dal comune fra il 2019 e il 2020 sulle condizioni delle infrastrutture sul primo approfondimento era stato eseguito sulle parti metalliche il secondo sui piloni che sreggono la strada Alto Moro oggi ci ritroviamo con 800 metri di cavo che meno male non hanno ammazzato nessuno e adesso un pilone ammalorato allora io invito l'assessore Campora magari non è il diretto interessato ma comunque è un assessore che ruota intorno alle responsabilità dell'amministrazione pubblica di farci un sopralluogo sul pilone ad esempio sottostante il municipio in corso Europa oppure una passerella pedonale che utilizzano gli studenti per andare a scuola abbiamo una situazione abbastanza importante dal punto di vista manutentivo dove i cittadini chiaramente iniziano a guardare in alto per riuscire a comprendere qual è lo stato manutentivo delle infrastrutture presenti sul nostro territorio grazie grazie a lei consigliere Giordano prima di passare alla successiva interrogazione solo per precisione sull'assessore Picciocchi è in missione per conto di lenta Roma però ricordo che giustamente è corretto il consigliere a facoltà essendo la risposta immediata di eventualmente rinviare a una seduta successiva la presenza dell'assessore di riferimento perché fino all'ultimo può succedere che non neanch'io ho contezza della delega ecco volevo solo aggiungere questo allora consigliere Cassiba veniamo alla sua interrogazione della numero 5 per l'assessore Viale Tutore Autovelox posizionati in lungomare Cane percorso Europa come mezzi di contrasto a comportamenti non conformi al codice della strada e a tutela della sicurezza stradale quali saranno le modalità operative di impiego degli stessi e quali tratti stradali interessati delle vie sopra indicate a lei la parola prego sì grazie presidente grazie assessore diciamo che il mio 54 è un po' articolato perché naturalmente raccoglie quanto l'amministrazione in questo momento sta operando per la sicurezza e la tutela dei cittadini riguardante le norme del codice della strada innanzitutto un plauso rispetto all'uniformità che finalmente è stata raggiunta fra lungomare Canepa e la guido rossa dove c'era una difformità fra 60 e 70 km e questo naturalmente comportava da parte dei conducenti sicuramente attimi di distrazione che poi portavano a commettere delle infrazioni per non sapere in quale tratto potevano potevano andare e a quale velocità detto questo si apprende appunto dagli organi di stampa che in in corso Europa si sta si sta provvedendo ad installare sia i tutor sia gli autovelox e quindi chiedo a fronte anche di fake news apparse proprio giusto proprio ieri sui social rispetto a un fantomatico comunicato della polizia locale quali sono le effettive l'effettiva collocazione di questi strumenti per rilevare la velocità media e la velocità in senso proprio deciso inoltre anche quali sono le modalità naturalmente di impiego degli stessi strumenti anche su lungomare Canepa perché naturalmente non molti sanno che sulle rampie di accesso per esempio della Guido Rossa c'è un rilevamento che è completamente difforme da quello invece sul rettilino che è di 70 km orari quindi volevo capire quali erano le differenze anche perché sulla sopraelevata che è l'esempio massimo di tutela stradale a Genova appunto con l'installazione dei tutor negli anni gli incidenti stradali sono notevolmente diminuiti ma sulla sopraelevata i tutor agiscono soltanto rilevando la velocità media non la velocità diciamo in senso assoluto pertanto chiedo se è in previsione anche una magari una conferenza stampa o comunque un tavolo di comunicazione che possa eventualmente avvisare i cittadini su quando e come verranno posti in essere tutte queste strumentazioni grazie grazie a lei consigliere Cassiva assessore Viale prego per la risposta grazie presidente grazie consigliere innanzitutto occorre d'obbligo segnalare come appunto ci fossiano girati dei messaggi contenenti delle fake news ovviamente il tutor in consul Europa non è assolutamente ancora attivo anzi è in fase di installazione consiste in un'installazione di tutor tra passo Pio Parma e via Mendoza in entrambi i sensi e l'installazione di tre autovelox fissi due per entrambi i sensi nella in prossimità di via Carrara e di via Tagliamento mentre invece valido solo per la direttiva Levante nell'area di via Timavo questa questa impiantistica ovviamente verrà prima montata poi verranno montate tutte le relative segnaletiche poi si effettuerà un periodo di sperimentazione e successivamente dopo abbondante comunicazione incomincerà l'attività sanzionatoria ora premesso che questo non vuol dire che bisogna correre in corso Europa finché questa impiantistica non è ancora attiva voglio ricordare che corso Europa è forse una delle maglie nere della nostra viabilità con tre incidenti mortali soltanto negli ultimi due anni mi pare di cui uno anche piuttosto diciamo brutale e una serie di incidenti di minore entità non mortali ma comunque gravi come tipologia con il ribaltamento di svariati veicoli detto questo appunto forniremo adeguata comunicazione l'impianto sarà di questo tipo laddove ovviamente c'è il tutor va a rilevarsi la velocità media invece laddove ci sarà la colonina velox fissa si registrerà la velocità di punta sul momento quindi il funzionamento è di questo tipo da un lato solo per un tratto simile appunto a quello che c'è in sopraelevata mentre invece negli altri trattati tratti simili assolutamente ad una normalissima rilevazione col velox effettuato dalla nostra polizia locale quindi invito tutti ad attendere le comunicazioni ufficiali che lo preannuncio le daremo anche a step e altra nota ricordo che ovviamente tutti questi apparati saranno tarati a norma di legge non c'è nessuna metodologia per la quale il comune possa decidere questi limiti sono tutti previsti per legge dal codice e la taratura è quella dei 5 km orari o del del 20% mi pare sulla velocità massima ma in strada urbana è di 5 km orari il limite di taratura dopo il quale scatta la sanzione dal superamento queste sono le le informazioni grazie grazie assessore Viale consigliere Cassiva per Reprita grazie assessore è stato è stato esauriente iniziamo con questo tipo di comunicazione intanto in quest'aula cominciamo a dare delle comunicazioni corrette alla cittadinanza e apprezzo molto il quanto da lei detto di un periodo comunque di prova di questi strumenti proprio per dare l'opportunità a tutta la cittadinanza poi di abituarsi e di comprendere al meglio quali possono essere i tratti dove ci saranno installati questi strumenti grazie passiamo ora alla successiva interrogazione proposta dal consigliere Crivello per il vice sindaco Nicolò pubblicazione dello studio scientifico epidemiologico ambientale riferito alla nostra città aggiornamento attivazione osservatorio ambiente salute del comune di Genova prego consigliere Crivello grazie presidente ma guardi assessore io l'interrogazione proprio nasce con lo spirito di con la volontà e con l'auspicio che si possa affrontare insieme in maniera trasversale un tema delicatissimo insomma considerando una situazione delicatissima a Genova ma anche un'opportunità l'opportunità che io voglio evidenziare in questa interrogazione perché anche se in altre occasioni abbiamo avuto modo di affrontare questi temi io vorrei riprendere un articolo pubblicato ieri dal giornale Cittadino che a sua volta riprende uno studio pubblicato dalla rivista scientifica della rivista internazionale di ricerca ambientale e salute pubblica lo studio è stato io poi lei è anche un tecnico quindi apprezzerà il fatto che è stato comunque compiuto da più soggetti ricercatori dell'istituto nazionale dei tumori di Milano con la collaborazione peraltro di alcuni uffici comunali e con il contributo di Valerio Gennaro che ha molte competenze immagino che lo conoscerà e avrà già avuto modo di apprezzare epidemiologo ambientale presidente dell'associazione medici per l'ambiente di Genova e per 40 anni è stato anche medico onco epidemiologo al Policlinico di San Martino quindi diciamo ci stanno tutte le competenze per affrontare attraverso uno studio quanto io le esprimo ma immagino che lei avrà avuto modo sono dati sulle aspettative di vita della nostra città e non è un invito ovviamente il mio a fare la guerra tra quantieri naturalmente va esattamente in una direzione opposta lo studio peraltro che distribuito nel corso di 20 anni sono dati che vanno dal 2009 al 2020 e insieme capire come agire io vorrei fare delle proposte molto velocemente sono dati statistici sui residenti e sono divisi su 25 distretti e le differenze sono assessori davvero più che impressionanti tra quartieri residenziali e altre realtà cittadine e lo studio peraltro credo che sia anche utile per questo un confronto non incrocia diciamo i dati socio-economici e in qualche modo non indaga sulle cause quindi una ragione in più per proseguire in questa riflessione insieme e quindi un'esigenza di approfondimenti si tratta di alcune realtà dove il benessere è maggiore in altre il malessere come dire è significativo a pochi chilometri tra l'altro da alcune realtà e come dire è evidente che in passato il tema è già emerso ma quando si legge che a Cordigliano l'accesso di mortalità osservato testuali nelle donne del 33% significa che in media ogni anno muoiono 33 persone in più rispetto alle 100 attese calcolate sulla base di media cittadine per gli uomini il numero è del 24% di decessi in più rispetto a quelli previsti al contrario dal baro si muore meno rispetto alla media nervi senza citare poi Rivarolo e la Valpolcevra allora io credo che questo aspetto meriterebbe un'analisi davvero insieme molto più attenta per valutare questi aspetti insieme rispetto a queste differenze ma un'analisi cittadina ecco io penso che debba essere un'analisi globale abbiamo uno strumento che è già quello studio io credo che sia utile assessore mettere in campo in tempi molto brevi una riunione una commissione se lei è d'accordo chiedendo ai soggetti che hanno fatto questo studio di poter essere auditi condividere socializzare al meglio questo loro studio ma anche a convocare l'osservatorio ambiente salute ho concluso presidente perché il secondo punto dell'osservatorio dice che a finalità fare valutazioni sui dati statistici ed epidemiologici allo scopo di individuare eventuali patologie presenti nell'ambiente allo scopo di ridurre i fili della prevenzione primaria assessore Nicolò la parola prego grazie presidente grazie consigliere Crivello certamente siamo sulla stessa linea vido quanto lei ha appena detto conoscevo la pubblicazione di questo lavoro su una rivista prestigiosa di ricerca ambientale epidemiologica devo dire a diciamo dal nostro punto di vista che questo dimostra la nostra l'apertura della nostra amministrazione della nostra giunta nel chiaramente fornire tutti i dati che sono necessari per raggiungere questi obiettivi altrimenti tutto questo non sarebbe avvenuto qui da parte nostra c'è certamente l'intenzione di essere come lei ha detto trasversali e di andare avanti in una collaborazione per valutare ulteriormente questi dati vede i numeri sono numeri quindi l'analisi poi meriterebbe forse una discussione ma lei dice probabilmente in una commissione anche se secondo me in una commissione diventa una cosa molto più seria dovrebbe essere fatta nell'ambito di una commissione scientifica probabilmente con epidemiologi che masticano molto di questi numeri perché lei ha citato come riportato ma d'altra parte anche nella conclusione di questo lavoro scientifico viene ribadita la debolezza di questo studio che consiste nell'aver confrontato situazioni residenziali dove c'era una campione di popolazione molto basso che confrontato con la popolazione generale con la popolazione genovese rendeva molti di questi risultati clinicamente non significativi se lei ha fatto caso in una tabella S3 o S4 a un certo punto riporta una linea con tante parrette verticali gialle e blu gialle sono i maschi blu le femmine o viceversa adesso non ricordo a un certo punto c'è una linea rossa e quelle diciamo quartieri che ricadono in prossimità di quella linea rossa cioè che la vanno a toccare e sono numerosi tra cui mi pare anche Ponte Decimo Rivarolo hanno raggiunto valori unicamente non significativi statisticamente non significativi proprio perché c'è una bassa campione e questo rende i risultati non diciamo ruibili dal punto di vista della significatività scusate ancora 30 secondi perché è importante però questo non toglie e questo sia un argomento molto importante e se si vuol fare una commissione benvenga l'osservatorio ambiente salute certamente è un momento importante che convocheremo anche per valutare questo in modo allargato coinvolgendo non soltanto gli epidemiologi noti e molto vali dal punto di vista scientifico del dottor Gennaro ma anche in modo tale da avere un po' un confronto tra pari come si dice in ambito scientifico diciamo con gli epidemiologi dell'Università di Penova in modo tale che questo sia per cui insomma direi ampia disponibilità di siamo d'accordo grazie grazie a lei assessore consigliere Crivello prima apprezzo la disponibilità è evidente che per quanto io non abbia le sue competenze non pensavo che la commissione infatti l'ho ribadito l'utilità sarebbe anche fonte importante prima di lei se ne occupava l'assessore Campora che l'osservatorio si convocasse con una maggiore frequenza ritengo che la commissione non sia assolutamente come dire lo strumento che in qualche modo debba escludere e la commissione la proponevo e continuo a proporla se qualche altro gruppo la vuole condividere questa richiesta con me ne sono con noi ne sono ben felice anche per socializzare con i consiglieri comunali dopodiché lo strumento fondamentale di questo sia l'osservatorio allargato ampliato per garantire naturalmente che le audizioni siano complementarie non so se come diceva come dice lei sia una ricerca debole o comunque con aspetti sicuramente un documento io credo utile dal quale ripartire perché non è questi dati e queste riflessioni le ricordo anche in un passato recente l'articolo cita anche questa questa ricerca questo gruppo che ha lavorato anche in una realtà avrà visto nella città di Taranto che come dire è nota per alcune difficoltà e complessità dal punto di vista ambientale l'aspetto e concludo è che pare che anche da questa ricerca a livello nazionale sia difficile trovare realtà analoghe cittadine dove ci sia una sorta così forte di dicotomia tra realtà territoriali così vicine tra di loro quindi io formalizzerò la richiesta dalla commissione apprezzando anche la sua disponibilità possiamo anche dire agli auditi che saranno disponibili a partecipare la convocazione dell'osservatorio grazie bene a disposizione ovviamente come sapete per le convocazioni delle commissioni passiamo ora a una coppia di interrogazioni consigliere Amorfini e consigliera Lodi il tema è quello del trasferimento del mercato di pelli non leggerei per ragioni di tempo i testi quindi do la parola prima al consigliere Amorfini e poi successivamente alla consigliera Lodi risponderà l'assessore Bordini prego consigliera Amorfini sì grazie presidente è notizia di questi giorni che IREN ha avviato il cantiere per la nuova rete fognaria e restyling della passeggiata il cantiere sarà suddiviso in tre lotti e la fine dei lavori è prevista per dicembre 2022 con l'avvio del secondo lotto di questo cantiere ci sarà purtroppo lo spostamento temporaneo del mercato che si svolge due volte alla settimana chiedo assessore quali iniziative ci sono in corso da parte della civica amministrazione e se sono state ascoltate le associazioni categorie quali CIV e gli ambulanti interessati grazie grazie a lei consigliere Amorfini consigliera Lodi prego grazie presidente ma sì la mia interrogazione si occupa del mercato ma non solo di un cantiere che improvvisamente si è palesato per i cittadini di Pegli per l'amministrazione del municipio di Pegli nel senso che i cittadini stessi hanno segnalato che all'improvviso si sono trovati una parte interdetta del diciamo del lungomare senza avere preavviso senza essere stati informati quindi ovviamente hanno fatto riferimento al municipio che dovrebbe essere per loro per i cittadini almeno per fortuna ancora i cittadini la interpretano in questo modo l'amministrazione direttamente in collegamento con l'amministrazione comunale in realtà l'amministrazione comunale non ha per nulla avvisato come dire l'amministrazione municipale sia dell'avvio dei lavori sia anche della programmazione del cronoprogramma che per fortuna il consigliere Amorfini ha elencato ma come dire doveva essere una informativa che doveva raggiungere il municipio preventivamente in maniera che i cittadini fossero informati creando quella situazione tipica dove tutti sanno ma chi doveva sapere non sa anche rispetto al coinvolgimento dell'associazione del territorio dei CIV molto bene il problema è che questo dovrebbe far parte di un tavolo di lavoro o di collaborazione perché a volte queste cose sembrano un po' faziose nel senso abbiamo avvisato il percorso che volevamo noi così anche per creare maggiore imbarazzo perché c'era chi sapeva chi non sapeva io penso che le amministrazioni anche se di colori diversi devono trovare il modo di essere unite per non confondere il cittadino che tutti i giorni va a lavorare si sposta e si muove e soprattutto unite nel rendersi conto che ci sono lavori da fare e lavori che vanno fatti però organizzare in modo che tutto questo sia preventivamente legato all'informativa e che possa svolgersi nel migliore dei modi a questo aggiungo ovviamente non solo le chiedo un cronoprogramma effettivo dei lavori anche se poi c'è stato modo dopo come sempre successivamente di fare delle dichiarazioni giornali in cui chi legge i giornali lo viene a sapere però ecco come recuperare questo percorso questo cronoprogramma come gestirlo quali saranno le tappe e i cambiamenti della vita dei cittadini di Pegli a questo punto anche ovviamente quello che sarà lo diciamo in un'aula quindi non alla stampa quindi diciamo i cittadini in maniera ufficiale a tutti i cittadini quello che sarà del mercato di Pegli il famoso mercato di Pegli l'organizzazione il cronoprogramma e le date di step è rammarico il fatto che si debba sempre venire in un'aula successivamente a quando tutto succede per avere delle risposte mi dispiace che mi risponda diciamo l'assessore Bordini solo perché sicuramente la sua è una competenza specifica più sul mercato ah ecco perfetto no perché il presidente non aveva bene bene così almeno ci sono i due livelli io poi con l'assessore Campora intorno a qui scopraticamente tutti i giorni quindi sono contenta che anche oggi ha questa risposta grazie allora sì non lo ribadisco anche a microfoni accesi una parte risposta assessore Campora inizia lei assessore prego assessore Campora grazie presidente grazie consigliere quando ho visto che c'era la sua la sua interrogazione ho chiesto di essere inserito per dare una risposta no allora tanto io partirei dalle dall'estrema diciamo positività poi del contenuto dell'interrogazione cioè di questi lavori che Pegli attendeva veramente da tanto da tanto tempo i lavori dureranno fino a dicembre 2022 ci sarà in grosso modo un costo di 2 milioni di euro fino a dicembre sarà operativo il cantiere del primo lotto che è finalizzato quello che è rifacimento della fognatura dal Varenna fino al depuratore che comporterà quindi anche una chiusura di una porzione della passeggiata e l'intervento poi prevede anche il diciamo il completo rifacimento della rete fognaria e il molto importante restyling della della pavimentazione e poi ci saranno altri lotti il secondo dal depuratore fino a metà passeggiata che si concluderà a giugno e poi il terzo da metà passeggiata fino a largo calassetta naturalmente quando abbiamo cantieri di questo tipo che peraltro erano cantieri erano opere abbastanza note già dal 2017 2018 abbiamo avuto diversi incontri nel municipio quindi sono opere estremamente importanti dal punto di vista ambientale che aiuteranno anche il tema della salubrità della salubrità dell'acqua dello specchio acqueo di fronte a a pelli io so che i reti e comunque i tecnici hanno rapporti abbastanza diretti anche con con il municipio noi siamo come dire sempre pronti a dare tutte le informazioni ma diremo ai reti comunque di magari se al municipio sono sfuggiti alcuni aspetti siamo naturalmente disponibili visto che siamo all'avvio di cantieri importanti di dare tutte quelle che sono le informazioni anzi dirò io anche i reti di comunicare magari periodicamente di fare telecomunicazioni al municipio e a noi dove da una sorta di stato dell'arte anche sull'avanzamento dei cantieri però quest'opera è un'opera veramente che parte da lontano iniziata anche dal collega dall'assessore Fanghella che si è occupato anche del tema della riqualificazione della passeggiata e quindi è un'opera importante e speriamo naturalmente di gestirla tutti insieme nel modo migliore Assessore Bordilli per la parte di sua competenza prima grazie presidente e grazie consiglieri assolutamente questi lavori sono stati concertati con le categorie sia del CIV che del mercato è un lavoro molto fondamentale per tutta Pegli per l'area diciamo verso Levante della passeggiata a mare che completa quindi quello che era stato fatto con la passeggiata verso Ponente abbiamo chiesto degli incontri nei quali sono stati mostrati le progettualità e abbiamo trovato soluzioni condivise con il mercato proprio per far sì che vi sia uno spostamento verso Ponente che non intacchi diciamo le aree mercatali e la anche consentitemi parte commerciale proprio che il mercato ha sulla passeggiata come voi saprete il mercato è oggi sia di lunedì che di giovedì dopo che da Piazza Rapisardi ci viene spostato perché non ci poteva più ci venire fatto lì causa altri lavori sulla Piazza Rapisardi si è lavorato per diciamo scongiurare anche che dei lavori sulla passeggiata magari sulla scelta anche di una pavimentazione che non consentisse più al al mercato di posare dove è oggi voglio anche ricordare come quella collocazione che oggi è sul mercato di Pegli è una collocazione vista molto positivamente sia dal mercato stesso che dagli stessi commercianti perché spostandosi oggi più verso levante si è davvero consentito un semi passato il termine il diciamo giro mare monte fra mercato con i commercianti quindi la logica è uno spostamento che ripeto è stato condiviso nella parte più verso ovest per poi riprendere con la fine lavori nella nella parte di oggi anche sottolineo come sono state condivise innovazioni particolari come c'è quelle c'è delle paline Enel che daranno finalmente una possibilità proprio sulla passeggiata per i commercianti sia dei mercati ma anche tanti mercatini o anche manifestazione che gli stessi commercianti ma hanno anche realtà del territorio vorranno fare che ovviamente ci consentiranno c'è l'uso quindi non c'è non più degli elettrogeni che ovviamente quindi ci comporta sia vantaggi per l'ambiente che ovviamente una fruibilità migliore della passeggiata proprio per le manifestazioni siano commerciali ma anche culturali o ogni tipo ecco di manifestazione che sulla passeggiata di di pelli si vorrà fare grazie assessore bordiglio allora partiamo dalla replica del consigliere amorfini e poi presumo che andremo in appello vediamo se residua poi tempo per il consigliere di benedictis prego consigliere niente nessuna replica se non quella di ringraziare l'assessore campola e l'assessore bordigli grazie consigliere lodi grazie presidente sì io volevo ringraziare gli assessori della risposta in aula mi spiace constatare come anche ha evidenziato il presidente Claudio Chiarotti che non ci sia stata alcuna passaggio con il comune bene se si riparte o almeno se si inizia a dialogare e a diffondere comunicazioni ho fatto alcune ho fatto un po' difficoltà a capire la differenza di che ha di cui parlava l'assessore bordigli tra est e ovest levante ponente del lungomare però magari poi mi risento l'intervento io spero che da adesso in poi ci sia un recupero del rapporto col municipio perché credo che il comune abbia un ruolo che all'assessore campola ho già un po' definito ieri in commissione che tutte le volte che c'è un'opera di qualsiasi entità sia importante sappiamo l'importanza il municipio l'ha sempre sottolineata l'importanza sto parlando con l'assessore campola se mi scusi no dicevo torno se mi dà due secondi in più perché quando c'è un'opera importante sul territorio che va a toccare i cittadini anche se il comune non è colui che esegue l'opera credo che abbia un ruolo importante di gestione della comunicazione dei rapporti tra cittadini autoamministrazione i locali e le realtà tutte sussidiali che mi pare in realtà fossero in parte state convocate quindi mi auspico che da adesso in poi visto che il cronoprogramma è molto lungo ci sia un nuovo una nuova evoluzione dei rapporti con il municipio e quindi di conseguenza con i cittadini per i miei grazie grazie a lei allora facevo i segnali di fumo prima per il consigliere De Benedictis così riusciamo anche a dare spazio alla sua interrogazione per l'assessore Picciocchi il delega assessore Campora la do per letta le lascio la parola le cedo la parola consigliere per l'illustrazione prego poi all'esito andremo in appello a seguire la risposta dell'assessore grazie presidente ma assessore brevisivamente io chiedo se esiste un piano di manutenzione dei marciapiedi perché come lei sa non tutti godono ottima salute come lei sa le persone anziane le mamme con i bimbi le persone con disabilità e d'altro camminando in certi tratti della nostra città mettere a rischio la loro economità io le chiedo se questo esiste questo piano oppure se è nelle previsioni da elaborarlo quanto prima grazie grazie consigliere direi che non c'è spazio perché resti un minuto andiamo in appello e poi la recuperiamo la risposta successivamente allora buon pomeriggio a tutti colleghi ben ritrovati possiamo aprire i lavori del consiglio comunale di oggi la parola come di consueto in avvio alla segreteria generale per l'appello avvocato Criscuolo prego buongiorno procedo con l'appello Morfini Anzalone Mariotti Abenente Baroni Bernini Bertorello Bruccoleri assente giustificata Bruzzoni Bucci Campanella Presente Cassibba Ceraudo Corso Presente Buongiorno Buongiorno Costa Crivello Ebenedictis Ferrero Presente Fontana Gambino Giordano Grillo Presente Immordino Presente Lauro Lodi Mascia Buongiorno Ottonello Pagliallunga Pagliallunga Pandolfo Bandolpo Buongiorno Buongiorno Pignone Pirondini Presente Buongiorno Buongiorno Tutti assente giustificato Remuzzi Presente Buongiorno Rossetti Rossi Salemi Santi Terrile Pini Vacalebre Villa Presente Buongiorno Buongiorno 37 Consiglieri Presenti Tra Presenza Fisica Remota Quindi La seduta Evalida Allora Prima di Avviare I lavori Di cui All'ordine Del giorno Odierno Assessore Camporo La risposta Al consigliere De Benedicis Prego Grazie Presidente Grazie Consigliere De Benedicis In relazione Ai programmi Quindi Di manutenzione Lei si riferiva Allo stato Di manutenzione Dei Diciamo Dei Marciapiedi Ogni anno Vengono Approvati Un piano Lavori Che viene Approvato Ogni anno Dalla Giunta Vengono Eseguiti Normalmente Dentro L'approvazione Del bilancio Successivo Naturalmente Qualora Nel corso Dell'anno Si dovessero Evidenziare Delle Urgenze Si provvede Con Un'altra Finanziamenti Quindi L'indicazione Che le do È quella Di Segnalare Laddove Ha Verificato La mancanza Di manutenzione Di segnalare La via I tratti Di marciapiedi In maniera Tale Da poterli Poi Inserire Nel Programma Manutenzione Grazie Assessore Campora Cereplica Consigliere De Benedictis La ringrazio Assessore Sicuramente Le fanno avere Alcuni Nomi Delle zone E Già che Competenze Del suo Assessorato Parliamo Di marciapiedi Vorrei Aggiungere Anche Magari Una Polizia Maggiore Di certe Zone Della Città Nei Marciapiedi Mi viene In mente Una Su tutte Piazzale Allero Ferraris Dove Da Parecchio Tempo Alberga Parecchia Spazzatura Quindi Direi Che Magari Comprici Anche Il vento Che fa Un molinello E la porta Tutto Nel suo Punto Però Sarebbe Opportuno Provedere Grazie Grazie A lei Allora Possiamo Procedere Con la Trattazione Dei documenti All'ordine Del giorno Oggi Al primo Punto Abbiamo Una Delibera Di Consiglio La Delibera 93 Del 16 Marzo 2021 Istituzione Del Regolamento Per L'applicazione Dell'ISEE Cioè L'indicatore Della situazione Economica Equivalente Ai servizi Alle prestazioni Sociali Agevolate Comunali Il primo firmatario È Il consigliere Mascia Su questa Pratica Sono stati Presentati Una In ordine Ovviamente Cronologico Di trattazione Una richiesta Di sospensione Proposta Dal partito Democratico Dieci Ordini Del giorno Cinque Emendamenti Ovviamente Questi Documenti Verranno Discussi E messi In votazione Solamente In caso Di Reiezione Della Sospensiva Che è Stata Presentata Quindi In ordine Cronologico Sesi L'articolo 17 6 Regolamento Consiglio La parola Alla Prima Firmataria Dalla Richiesta Che vedo Già Pronta Consigliera Lodi Ricordo Che sono Ammessi Poi Opposizione Due Interventi In opposizione Due Favore Prego Consigliera Lodi Grazie Presidente Ma Intanto Premetto Che Questo Argomento E tutto Il tema Che riguarda I servizi Sociali È un tema Molto Delicato Di grande Attenzione Oggi In un momento Difficile Per molte Famiglie Molte persone Genovesi E quindi L'opportunità Anche Di affrontare Questi temi In aula È un'opportunità Davvero Abbiamo avuto modo Di discutere In due commissioni Secondo noi Poche Rispetto Alla necessità Di approfondire Un argomento Di questo tipo E già Vi erano Alcune perplessità Che proviamo A fissare Su un tema Molto complesso Ed articolato Intanto Un problema Che Avevamo posto Già in commissione Consigliare È che c'è Un'elencazione Di servizi Che dovrebbero Essere Regolamentati E quindi Alcune Prestazioni Sociali Menzionate All'interno Del regolamento Attualmente Non sono In fase Di erogazione Da parte Del comune Di Genova Il che Può essere Come è stato Interpretato Uno stimolo Ad attivarle Ma quando si Regolamentano Dei servizi Si regolamenta Quello che c'è Quindi se parliamo Di regolamento Un primo problema Su cui andrebbe Fatta una riflessione È questo Il secondo Quando si fa La regolamentazione Di servizi Si parte Da un'organizzazione Di servizi Che parte Da un'analisi Del bisogno Questo processo Che è stato evidenziato Anche dalle organizzazioni Sindacali In serie di commissione Consigliare Non è avvenuto Il comune Ha in pancia Molti dati Demografici Economici Eh Dati anche Legati alla raccolta Per esempio Delle istanze Di povertà Dei cittadini Genovesi Sul tema Dei bonus E dei buoni Spesa Quindi Si tratterebbe Di Fermarsi un attimo Avviare Una discussione Importante Che se anche Non c'è L'assessore Servizi Sociali Può essere avviata Dal consiglio comunale Se lo riteniamo Eh Dove Si mettono In fila I bisogni Le necessità L'analisi La fotografia Della popolazione Di Genova Un'organizzazione Dei servizi Che sicuramente Va rivista Nei termini Delle vecchie Nuove povertà Che è un po' Lo stimolo Di questo regolamento Che ci richiama Questo aspetto E dopodiché Una volta che si decide Tutto questo Si va A regolamentare Eventualmente Per la parte Normativa prevista L'accesso ai servizi Tenendo presente Però sempre Due cose Che l'accesso Ai servizi Oggi In un tempo Specifico Tende A vedere Il più possibile La platea In In Bisogna Più ampia E quindi Più servizi E più affiancamenti Alle persone Con i loro bisogni E poi anche Nella maniera Più Equa Quindi Dei livelli Essenziali Di assistenza Che non si dimenticano Nessuno In questo regolamento Non essendoci Una Riorganizzazione Dei servizi Che partano Dall'analisi Dei bisogni Questa certezza Non c'è Assolutamente E quindi È una grande responsabilità Ultimo punto È appunto Quello Delle Della possibilità Di rendere Più partecipi Gli ordini Professionali L'ordine Di assistenti Sociali L'ordine Degli psicologi Il terzo settore Che è uno dei E' uno dei soggetti Che per la normativa nazionale Quindi non tanto Perché uno Gli fa piacere solo Anche se Devo dire Che lavorare Con il terzo settore Mette insieme Una serie di competenze Di storie Importanti Per la nostra città Però il terzo settore È comunque Un soggetto Con cui il comune È chiamato Attraverso Nuovi sistemi Come L'amministrazione Partecipata Attraverso I patti di sussidiarietà E essere il Co Organizzatore E soprattutto Il co Diciamo Colui che Coprogetta E coordina Insieme al comune Le attività E ecco Questo Va ascoltato Va integrato All'interno di un percorso In cui parliamo di servizi Quindi Noi chiediamo con questo Una sospensiva I sensi Dell'articolo 17 Come assesso Del regolamento Del consiglio comunale Perché riteniamo Che sia un'occasione Importante Che debba Avere più tempo Per essere articolata Avere E vedere Più partecipazione Quindi Non neghiamo La necessità Di fare una riflessione Complessiva Anzi Benvenga Però L'essere affrettati Potrebbe davvero Determinare Delle conseguenze Di iniquità E soprattutto Di sottovalutazione Di quella che è la necessità Invece di creare Nuovi servizi Che non sono elencati Magari qui Oppure di ripristinare Alcuni che sono elencati Ma che oggi Non sono in emissione Da parte dei servizi Sociali Territoriali Tenendo conto Che per noi Il ruolo Dell'assistente sociale Dell'operatore sociale Centrale E quindi Il partecipare Con l'ordine Gli assistenti sociali A questo percorso Sia cosa Dovuta E anzi Possa elevare La qualità Del percorso In consiglio comunale Grazie Grazie a lei Consigliere Lodi Allora Ci sono Interventi Sempre notato Consigliere Campanella Scusi Consigliere Giordano Lei immagino Che intervenga A favore Devo verificare Prima se ci sono Interventi In opposizione In opposizione Prego Consigliere Campanella Grazie Presidente Il mio intervento In opposizione Alla sospensiva Presentata Dal partito Democratico In quanto Reputo Che il nuovo Regolamento Isee Con fattore Famiglia Possa ampliare E possa dare Delle garanzie In aggiunta In quanto L'accesso Ad alcune Prestazioni Sociali Che infatti Introduce Accanto Al parametro Del reddito Dell'Isee Altri criteri Strettamente Legati Alla problematica Della famiglia Cioè A chi In famiglia Presenta Disabili Disoccupati O figli Questo cosa Significa Significa Che molte volte Alcune persone Che sono In estrema Difficoltà Magari Non sono Conosciute Dai Senti Sociali Del comune Perché Solamente Perché Non possono Aderire A tale Aiuto Perché Hanno Un Isee Un po' Più alto Ma Un Isee Un po' Più alto Lo si può Avere Solamente Se Erediti Una Casa E già Avendo Ereditato Una Casa Sei Forse Fuori Da Parametri Questo invece Aiuterebbe Questo nuovo regolamento Aiuterebbe Invece Tutte quelle famiglie Genovesi Che si trovano Lo stesso In difficoltà Per la presenza In casa Di situazioni Problematiche Di poter Zufruire Invece Di supporto A digevolazioni Supporto A digevolazioni Che comunque Possono Aiutare Non solo Disabili Ma anche Gli anziani Nell'istruzione Nello sport E nel trasporto Soprattutto E dando Quindi servizi Aggiuntivi A queste persone Debole Si può Quindi Senza dubbio Ampliare Nel nuovo Regolamento Altre figure Come mi stava Prima Sostenendo La consigliera DPD Cristiana Lodi Ma non Condivido Il fatto Di non Poter portare Avanti Questo nuovo Regolamento Che il comune Sta Attuando E che da oggi Si potrà Avere uno strumento In più Per attuare Politiche Di sistema A favore Delle famiglie Gionovesi Ed è per questo Presidente Come dicevo In introduzione Mi oppongo Le richieste Di sospensiva Grazie Grazie a lei Allora Consigliere Giordano Affrimo intervento A favore Prego Le la parola Grazie Presidente Intanto Sulle sospensive Vorrei fare Una riflessione Non è un errore Riportare Una delibera La richiesta Diciamo Di sospensiva In una commissione Dove magari Si richiede Di fare intervenire I soggetti Che non hanno avuto La possibilità Di essere Parti attive In questo percorso Perché Insomma Nel documento Depositato Ci sono I fattori Che comunque Indicano Un percorso Di condivisione Di riportare Diciamo Al centro Della attenzione Un argomento Essenziale Cioè Quello del regolamento Per l'applicazione Delle di sé Ai servizi E alle prestazioni Sociali E agevolate Comunali Insomma Il fattore Famiglia Ad esempio Non è previsto Non sono stati Auditi Gli ordini Professionali Coinvolti Dall'organizzazione Di servizi Sociali Il terzo settore Insomma I soggetti Che poi Sono quelli Attuatori Di questi Servizi Di queste prestazioni Sociali Non sono stati Praticamente Parte attiva In questo percorso Chiaramente Noi Consigli di comunale Abbiamo l'obbligo Di assumere Diciamo La responsabilità Ma quando Ci sono tutti Gli elementi Essenziali Per poterla Assumere In molte commissioni E molte delibere Purtroppo Quando ci sono Delle richieste A fine commissione Per posticipare In un tavolo Successivo Per approfondire In un tavolo Successivo Determate Arcommentazioni Che sono poi Il pilastro portante Proprio di queste Di questo indirizzo Ahimè La dichiarazione Di aula Travolge Diciamo Quello che dovrebbe Essere Un confronto Democratico E costruttivo Soprattutto Su argomentazioni Così prioritari Quindi Quello che mi sento Di dire Alla maggioranza E al sindaco Quando si chiede Una sospensiva Non è un peccato Originario Stacca di migliorare Diciamo La qualità Della delibera L'oggetto Quindi questa È la riflessione Che mi sento Di comunicare Oggi Grazie Grazie a lei Consigliera Brusoni Prego In opposizione Consigliera Brusoni Sì Grazie Presidente Io sono Contraria Alla sospensiva Si parlava Prima di commissioni La prima commissione Che è stata Indetta Addirittura Si è voluto Il presidente Anzi il presidente Costa L'ha voluta Ha deciso Di riaggiornarla Proprio affinché Venissero invitati Ulteriori auditi Se poi Questi auditi Che voleva Soprattutto la minoranza Non si sono presentati Alla seconda Indubbiamente Penso che Maggiore Dimostrazione Di quanto abbiamo fatto Non ci potesse essere In commissione E quindi Ritengo Opportuno Che oggi Il consiglio comunale Vada avanti Con Questi lavori Grazie Grazie a lei Non vedo Ulteriore richieste Di intervento Quindi Pongo in votazione La questione Di sospensiva Ricordo a tutti Che chi vota A favore Per sospendere La discussione Della proposta Della delibera Di consiglio Chi vota contro E per andare avanti E trattare l'argomento Oggi Si vota Grazie a tutti Grazie a tutti esito votazione in presenza 29 consiglieri presenti 11 voti favorevoli 18 contrario alla richiesta di sospensiva da remoto consigliere Campanella consigliere Campanella consigliere Accorso consigliere Accorso consigliere Ferrero contrario consigliere Grillo consigliere Grillo contrario consigliere Immordino favorevole presidente sono corso contrario grazie consigliere Pandolfo favorevole consigliere Pirondini favorevole consigliere Remuzzi contrario consigliere Villa consigliere Villa favorevole consigliere Villa con i 15 voti favorevoli 23 contrari consiglio comunale respinge la richiesta di sospensiva quindi andando alla trattazione dei documenti a corredo della delibera abbiamo rispettivamente 10 ordini del giorno e 5 emendamenti ordini del giorno il primo firma vicepresidente Grillo dal 2 al 9 consigliere Allodi ordini del giorno numero 10 consigliere Giordano quindi andando in ordine vicepresidente Grillo a lei la parola per l'illustrazione del primo ordine del giorno prego l'ordine del giorno colleghi richiama quanto è previsto negli articoli che citerò articolo 1 oggetto da regolamento è specificato che gli scaglioni ISEE per determinare le agevolazioni sono definite con deliberazioni della giunta comunale all'articolo 2 ambito di applicazione è specificato che le agevolazioni non essendo considerate dalla normativa contingente livelli essenziali di assistenza possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità di bilancio annuale dell'amministrazione sempre all'articolo 2 al punto di servizi educativi scolastici è specificato ogni altra prestazione che l'amministrazione comunale ritenga di assoggettare al presente regolamento e inoltre ogni altro servizio assistenziale educativo scolastico di nuova istituzione che preveda benefici di natura economica e soggetto al presente regolamento all'articolo 5 criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari è previsto una volta calcolato l'ISEE e determinate da parte della giunta comunale le soglie di accesso alle prestazioni sociali agevolate sono di seguito previsti accanto all'ISEE ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari delle medesime prestazioni oltre graduarne l'eventuale compartecipazione economica all'erogazione e la relativa entità vengo poi citato colleghi quanto è previsto al punto 3 del dispositivo ci ho detto con l'impegnativa impegniamo il sindaco alla giunta in modo particolare degli addempimenti previsti nel regolamento ed in particolare quelle nelle premesse richiamate il consiglio comunale sarà annualmente informato voglio aggiungere che ovviamente questa deliberazione la ritengo utile necessaria opportuna anche perché sono anni che non si entra nel merito di questo regolamento e quindi come tutti i regolamenti ovviamente vi è la necessità di un aggiornamento fermo restando come ho specificato nell'ordine del giorno che poi comunque il consiglio comunale sarà coinvolto nel valutare soprattutto in previsione dei bilanci previsionali ovviamente la ricaduta che questa delibera avrà nei confronti dei cittadini grazie grazie a lei vicepresidente Presidente Grillo allora consigliera Lodi veniamo a lei gli ordini del giorno dal numero 2 al numero 9 prego grazie presidente ma questi ordini del giorno un po' anche cercando di spiegare diciamo l'accezione alla valutazione positiva di andare avanti della consigliera Brusoni cioè quando si parla di queste materie non è così immediato proprio perché sono materie molto ampie l'identificazione di aspetti da approfondire e il fatto che la maggioranza comunque nel momento in cui si è stata convocata la commissione non abbia fatto una sua valutazione poi ci sia stata una valutazione successiva proprio perché questi documenti si come dire si raccontano da soli ma non solo c'è bisogno di avere anche narrazioni diverse soprattutto di avere competenze perché un conto è diciamo essere competenti nel settore e conoscere come si costruisce un sistema di servizi e un conto non esserlo quindi quando si con questi ordini di giorno l'obiettivo è quello di provare a porre le questioni in essere e soprattutto a porle nell'ottica che su temi così non è che bisogna correre ma bisogna fare le cose bene da farle farle bene allora se viene posta una riflessione di approfondimento che non è una contrarietà sul documento ma è un maggiore approfondimento costruzione per farlo meglio e per farlo bene non credo che sia un atteggiamento stativo quindi il primo ordine del giorno è un ordine del giorno che fa riferimento per esempio al tema dell'elencazione dei servizi che prevede il regolamento stesso e ci sono come nella sospensiva era evidenziato servizi che ad oggi non sono erogati dal comune di Genova e non credo tecnicamente non funziona che un regolamento regola una cosa che non c'è ma tecnicamente non può nemmeno regolare una cosa che non c'è perché se la regola allora magari qualcuno ce la mette e non funziona così allora diciamo che proviamo però a utilizzare il più possibile questa opportunità perché mi pare che l'atteggiamento non sia quello né costruttivo né evidenza di costruzione di riflessione di regolamento d'altra parte se non c'è un assessore ai servizi sociali un problema c'è e tra l'altro stupisce anche che questo come dire tema venga presentato senza per carità contro consigliere capogruppo Mascia che io rispetto molto ma esiste un consigliere delegato alla materia e quindi come dire mi sembra un po' tutto strano ma comunque cercando di sfruttare l'occasione già anche nelle giunte precedenti che ha aggiunto precedente quindi è un tema a me molto caro si pone il tema dell'erogazione di contributi economici di supporto al revito per persone anziane e con problematiche di salute mentale in carico ai servizi di salute mentale ad esempio tutti gli interventi su domanda del cittadino e gli interventi con progetto social individualizzato io dico magari nel senso che magari qual è il problema che nel tempo dal 2009 quindi è un problema annoso ripeto che io per chi è un pochino più anziana di aula come la consigliere lauro si ricorderà l'ho sempre posto a tutti gli assessori anche del centro-sinistra cioè dal 2009 si è bloccata l'erogazione dei servizi dei sussidi economici dei contributi economici come domande si è andato a chiudere la coda di tutti quelli che erano in erogazione fino all'esonero del problema e non si sono più fatte non si è più data la possibilità di fare domande perché si pensava all'epoca che facendo domande si induceva un'aspettativa che non si poteva accogliere io penso esattamente il contrario penso che un comune debba raccogliere le domande e quindi il bisogno per costruire delle risposte questo è un tema a me molto caro però dato che viene messa all'interno di servizi che attualmente non sono né esistenti ma quindi non possono essere regolamentate allora io colgo l'occasione l'ennesima occasione che mi si pone e dico che chiedo al sindaco raggiunto a questo punto visto lo stimolo del regolamento che vengano ripristinate le possibilità di presentare le richieste di aiuto economico ai servizi sociali da parte di persone anziane con problematiche di salute mentale ecco mi pare che nel io erroneamente non ho fatto un emendamento ma persone anziane e con problematiche non capivo se era o comunque io ho messo e o perché secondo me sono due categorie ci sono giovani adulti non anziani con problematiche di tipo di salute mentale importante quindi di da una parte aprire quindi con l'accento di salute mentale della ASLE col comune con gli enti del terzo settore quindi una discussione su riaprire questa possibilità e stanziare risorse perché se no se si avrà possibilità e non ci sono risorse è chiaro che tutto rimane evanescente passiamo all'ordine del giorno numero tre allora io torno a dire che è difficile regolamentare guardate questo non è un vorrei dirlo perché su questi temi credo che l'unitarietà e la collaborazione siano importantissimi però torno a dire che elencare dei servizi che non ci sono crea aspettative e soprattutto non aiuta l'erogazione dei servizi che non ci sono perché o continuano ad essere erogati e quindi non potranno mai essere regolamentati o mettono in seria difficoltà il sistema che non ragiona quindi su un'evidenza di servizi esistenti ma su una narrazione che non ha alcun tipo di consistenza quindi in questo di nuovo giorno sottolineando che sono andate guardate a vedere anche normative nazionali che mettono proprio in evidenza come il ruolo del servizio sociale sia analisi del bisogno programmazione e organizzazione dei servizi e accesso regolamentazione dell'accesso ai servizi ecco noi partiamo dall'ultimo punto mi spiace cioè continuo a pensare che sia un errore perché guardate non è solo come diceva il pare consigliere Campanella un tema di ma noi vogliamo perché l'ISEE certo l'ISEE ha tutta una serie di limiti ed è vero che esiste la discrezionalità dei comuni di inserire dei criteri ma è anche vero che non essendoci un'analisi del bisogno non essendoci danno la riorganizzazione dei servizi ed essendo qui presente un'elencazione di servizi non esistenti è tutto completamente surreale anche perché io dico il cittadino che legge questa delibera dice per esempio ci sono le attività dei giochi ora non mi ricordo più la parola che è venuta cessione delle attività per le famiglie che non ci sono quindi anche la serietà credo non che io voglia mettere in dubbio questo ma diciamo la congruenza del messaggio che si dà ai cittadini è importante dire e quindi sarebbe stata opportuna una riflessione in consiglio comunale per esempio un consiglio monotematico dove dirci che cosa vogliamo che una città offra ai cittadini questo non è quindi con quest'ordine del giorno chiedo un impegno al sindaco e alla giunta ad eliminare le voci non esistenti confrontandosi con gli uffici relativi ai servizi elencati quindi non non ho proposto io proposte di togliere servizi all'interno dell'elencazione perché sembrava non volere dei servizi ma provare ad aggiustare il tiro su quelle che sono l'elenco per esempio una cosa che è diciamo gestita con l'ISEE sono l'accesso alle liste alle graduatorie per l'inserimento degli anziani in struttura cioè il tema degli asili nido cioè il tema delle scuole materne questi sì che sono temi attualmente esistenti e regolamentati ma per esempio c'è tutto il sistema abitativo su cui tornerò e sul sistema dei senza dimora e sull'emergenza abitativa che io svincolerei assolutamente da questo tempo a valutare quindi l'attivazione di quegli servizi che sono menzionati ma non ci sono attraverso un'analisi dei bisogni e a inserirli successivamente magari aggiungendo anche i servizi non elencati ma necessari rispondenti ai bisogni stessi faccio un esempio che eh calza quando eh svolgevo il mio lavoro come assistente sociale alla salute mentale c'era un ragazzo a cui noi davamo un sussidio economico e 50 euro parliamo di tanti anni fa per andare a un corso di ehm in piscina ah beh allora produciamo i sei produciamo allora quel corso di piscina che era osteggiato da una famiglia psichiatrica fortemente disturbata e che magari 50 euro lo avevano per pagare il corso di piscina a quel ragazzo in quel momento se non veniva erogato all'interno di un processo individuale definito con gli assistenti sociali e terapeuti quel ragazzo non faceva il corso di piscina perché c'era come dire il trattenerlo dalle risorse economiche della famiglia allora questo per intenderci che a volte i criteri le modalità di incasellare non sono consone all'affrontare il bisogno della persona allora quindi non è una questione non volere i criteri ma di stare molto attenti perché se si se si danno come dire illusioni su servizi che non ci sono e non si guarda quello che serve si rischia davvero un po' di non far nulla oppure di far peggio l'ordine giorno numero 4 la consigliera Laura che ho già in aula che ho menzionato anche favorevolmente però vado avanti allora no perché la consigliera Laura ha assistito a molti giorni di servizi consigliera Lodi ci penso io per favore vado a provare che stavamo procedendo benissimo in maniera chiara un po' di silenzio in aula grazie comunque poi l'ordine giorno numero 4 con questo la cosa che ho evidenziato in maniera fortemente positiva e ho ringraziato il consigliere Mascia è stata quella di porre la necessità di entrare nell'ambito nel discorso dei servizi sociali perché se non c'è un assessore dei servizi sociali se non lo fa il consigliere delegato lo fa il consigliere capoglupo Mascia bene benissimo cioè qualcuno che lo fa a questo punto io lo ringrazio non posso fare altro perché se c'è qualcuno della maggioranza che si pone questo problema molto bene ora il problema però qual è e qui però invece come dire ci siamo parlati molto chiaramente il tema dell'analisi della fotografia della popolazione genovese oggi rispetto al bisogno e rispetto all'elaborazione dei dati che sappiamo con grande fatica con il capogruppo Terrile siamo riusciti ad avere finalmente con un accesso agli atti insomma del capogruppo Terrile questi dati demografici ma un tempo si presentava un annuario statistico del comune di Genova dove si fotografava non solo la situazione demografica ma anche la situazione socio-economica dici cavolo abbiamo dei dati così sì sì il comune ha dei dati per evidenziare quella che è la situazione socio-economica della città allora su quello si vanno a costruire i servizi di ogni tipo servizi ai trasporti le tasse e queste cose perché si evidenzia quali sono le falle della popolazione e quali sono invece le forze della popolazione ed è anche difficile guardate per l'opposizione perché se non c'è questa analisi molte volte si rischia di dire cose politiche vaghe vane ed è veramente una necessità soprattutto anche di chi cerca di pensare un pensiero sull'organizzazione dei servizi sociali oggi immaginare in che ambito gli assistenti sociali gli operatori del comune stanno lavorando che complica tantissimo il lavoro degli operatori sociali perché non essendo chiaro come dire il margine all'interno del quale si svolge tutto questo diventa molto molto difficile allora tenuto conto che la comunità infatti professionale di servizio sociale ad oggi in servizio nel comune di Genova esprime le competenze per poter contribuire a un ripensamento dell'organizzazione dei servizi sociali se a sua disposizione venisse messa la lettura del bisogno quindi partendo dal presupposto che il comune ha i dati ai professionisti quindi purtroppo non ha un assessore io lo dico tutte le volte perché credo guardate io ho già detto più volte che l'assessore ai servizi sociali se diventasse il consigliere Baroni sarebbe molto contenta ma perché credo che poi ad un certo punto le competenze di qualunque parte siano debbano essere trovare una collocazione che dà dignità alla delega del servizio sociale che è una delle deleghe fondamentali trasporti servizi sociali e trattazione rifiuti queste sono le tre grandi deleghe importanti per il comune allora con questo ordine del giorno si chiede al sindaco alla giunta di avviare l'elaborazione di tutti i dati statistici demografici ed economici a disposizione dell'amministrazione comunale al fine di ripresentare la città con i suoi punti di forza e di fragilità fotografando vecchi e nuovi bisogni per ripensare ai servizi rendendoli sempre più rispondenti ai bisogni dei cittadini poi progettando con il terzo settore anche attraverso l'amministrazione partecipata inserisco due temi e guardate anche qui c'è stata spesso un po' di demagogia su questo tema del terzo settore ma la sussidiarietà orizzontale verticale e la coprogettazione e l'amministrazione partecipata e tutte le norme relative al codice del terzo settore nazionale ripresentano e ripropongono questa addirittura inseriscono il concetto che si andrebbero ad evitare gare per poter arrivare a coprogettazioni importanti come i passi di sussidiarietà qualcosa ha fatto il comune bene o cioè come dire usiamo questa occasione per ripartire su queste cose che sono io credo molto importanti soprattutto guardate tutto questo per rispondere ai cittadini ecco perché se no rimandiamo le risposte ai cittadini solo a misure nazionali che per carità ben vengano ma non svolgiamo quell'azione che è importante da parte del comune l'ordine del giorno numero 5 dunque allora premesso che questo regolamento va a regolamentare scusate gioco di parole servizi per rispondere ai bisogni impellenti partiamo dalla considerazione che la carità diocesana recentemente ha narrato e presentato i nuovi dati che dicono che nel 2020 c'è stato un aumento del 15% di accessi da 5.000 parliamo della carità genovese da 5.405 persone accessi a 6.202 con il dato più grave è il 48% di persone che si rivolgono per la prima volta quindi vuol dire che nel 2020 la pandemia e una congiuntura di cose ha determinato questo a me per esempio interesserebbe in collaborazione in coprogettazione con Caritas capire qual è la configurazione di queste persone che non si può guardate banalizzare dicendo che probabilmente saranno persone sole che vivono da sole o persone che hanno perso il lavoro cioè queste cose ce le devono dire i dati quindi noi abbiamo per esempio una base di partenza dell'analisi della povertà e potremo lavorare su questi dati per capire profilare il genovese o la genovese che oggi vanno si sentono di dover andare alla Caritas perché hanno bisogno e allora lì penso ai servizi che servono a quelle persone e allora lì penso a dei criteri che permettano a quelle persone di entrare nel sistema dei servizi sicuramente la Caritas di Ocesana ha messo in evidenza come la pandemia ha aggravato la situazione di quanti precedentemente vivevano nella linea della sussistenza ma ha detto una cosa importante guardate il nuovo di grandissima competenza del comune dice che molti nuclei familiari e questa cosa a me guardate mi ha davvero sconvolto mi ha molto colpito non ci avevo mai pensato sono finiti sotto la soglia della povertà perché l'unica fonte di reddito era legata alla pensione di una persona anziana mancata per covid allora il fatto che molti nuclei vivano attraverso come dire un'accoglienza dei propri anziani che però rimangono sempre le uniche fonte di reddito su cui si basa la vita di una famiglia a me ha sconvolto perché vuol dire che quelle persone e non lo dice la Chessina Lodi non lo dice il PD non lo dice non lo so ma lo dice la carta di Ocesana è un dato impressionante che mette al comune due pensieri due problemi uno il tema degli anziani di inserimento delle strutture due il sostegno all'attività di cura delle donne per esempio che spesso e volentieri sono quelle che rimangono a casa e non lavorano e con la pensione della persona che assistono tirano avanti anche dando da mangiare i propri familiari questo è un po' il quadro la semplificazione questa cosa qua a me ha davvero molto colpito perché vuol dire che davanti abbiamo una povertà molto molto diversa molto diversa da quella una parte di povertà purtroppo un'altra parte non è sempre la stessa su cui fare dei ragionamenti di offerta di servizi e non tanto dei criteri torno a dire quindi con quest'ordine del giorno si impegna sin da quella giunta ad avviare un tavolo urgente sulle nuove vecchie povertà con tutte le realtà che si occupano in città di dare risposte per immaginare una coprogettazione di interventi dopo aver eseguito un'attenta analisi del bisogno perché anche qui quando si legge si leggono delle rappresentazioni diciamo di povertà di questo tipo uno dice oddio e cosa si fa poverini no guardate esistono degli strumenti professionali e un'analisi che gli assistenti sociali del comune e gli operatori insieme degli altri enti anche sanitari andrebbero a fare insieme al terzo settore e a tutte le realtà che si occupano di povertà perché si deve andare a capire a perché succede a questo b quali possono essere ad oggi gli strumenti per andare per esempio intervenire a favore di una donna o di un uomo che sono perché a volte si sono come dire uomo e donna figli che rimangono a casa per assistere i propri genitori hanno non magari nemmeno avviato un'attività lavorativa perché non avevano le condizioni per farlo come vedete tutti questi ragionamenti svincolano molto dal tema dei criteri e rischiano di evidenziare dei criteri assolutamente non adeguati alla risposta di queste persone anche perché vi dico in passato al prossimo del giorno se si andasse a vedere l'isee di queste persone per l'anno precedente avrebbero un'isee buono purtroppo con il decesso della persona improvvisamente crollano in povertà e questo l'isee non lo dice ma non lo dice nemmeno i criteri che vengono inseriti ordine del giorno numero sei ma allora il numero numero sei ehm parte un po' da quella che è una parte delle premesse che io ho letto e riletto con molta attenzione questo proprio per perché non voglio davvero spero che il collega Mascia non viva questo come una critica tanto per criticare ma davvero come un'attenzione uno studio e ho riletto molto il punto dove parla di che è opportuno procedere nella direzione D e dice che questi criteri si basano su alcuni assiomi che sono legati al tema del carico dei figli non più intesi come componenti generici poi introduce il tema della disabilità della monogenitorialità della separazione poi genericamente intende intervenire sul tema della circostanza della perdita di reddito derivante da problemi di lavoro e il tema dell'indebitamento io continuo a pensare che e guardi uno potrebbe dire vabbè ma se mancavano delle categorie potevi fare l'emendamento e no il problema qual è che io potrei mettermi qui e pensare a quelli che potrebbero essere le persone che sono state dimenticate da questa classifica o da questa da questa categorizzazione ma farei lo stesso errore perché io non avendo l'esame della società attuale di Genova né dei dati né del bisogno dei cittadini genovesi io potrei mettere qua e dire ah ma io aggiungerei questo poi ci aggiungerei questo poi ci aggiungerei questo e farei lo stesso esentico percorso ho avuto la tentazione perché leggendola mi è venuto l'idea di dire ah ma a mia esperienza mi viene in mente questo tipo di povertà ma non è questo quello che io invece credo sia importante fare bisognerebbe che ci fosse appunto un'analisi della società genovede della città di Genova che dica che mette in evidenza per esempio quello che ha messo in evidenza la Caritas oggi è una categoria è difficile da immaginare nelle classiche categorie cioè le famiglie che entrano in povertà perché muore una persona della terza età anziana questa roba qui è una cosa diversa dall'immaginario che noi possiamo ascoltare nei servizi sociali nelle aure di tribunale parlando con gli amici colloquiando e non si può semplificare in questo modo perché guardate occuparsi delle persone attraverso i servizi sociali spesso la delega ai servizi sociali viene sempre data quando non si sa cosa dare a una persona poi ci rimane di solito è sociale e cultura nella sede dei servizi sociali la delega alla cultura guardate non è così perché la professionalità necessaria per gestire molte materie di questa città è relativa anche alla come dire professionalità necessaria per gestire il tema dei servizi sociali quindi almeno si chiede con questo un impegno al sindaco alla giunta non rendere operativo il regolamento fino ad avvenuta analisi del bisogno quindi io lo riformulo cercando di dire va bene se volete approvarlo almeno fermatelo finché non ci sia un approfondimento per guardare se manca qualcosa questo è l'elemento che mi sembra almeno di trovare una soluzione a questo percorso in maniera che se attraverso anche per esempio i dati della Caritas i dati di Sant'Egidio vengono dati molti dati istat e i dati che il comune ha sulla situazione socio-economica che bisogna però che ricominci ad elaborare perché sono già quattro anni che questo non avviene e allora su questo noi possiamo immaginare di riorganizzare servizi alla persona e allora magari modificare integrare il regolamento nelle possibilità previste della legge per le modalità e l'erogazione dei criteri dei servizi lo dico come razio per me importante cioè il fatto che almeno davvero si provi ad avere due temi importanti i livelli essenziali di assistenza e l'equità delle prestazioni che guardate non vuol dire che tutti devono avere tutto ma vuol dire che tutti quelli che devono avere quella cosa la abbiano e quindi la riarticolazione del sistema dei servizi permette questo tipo di approccio ordine del giorno numero 7 allora qui viene introdotto alla parte il considerato che si mette in evidenza come il comune e come ha detto giustamente in commissione e illustrando la proposta il consigliere mascia il comune ha la possibilità discrezionale di integrare con propri criteri come fanno altri comuni e affiancare l'ISEE che guardate è un sistema assolutamente perfettibile perché sappiamo che è lacunoso su molti aspetti e molto difficile tra l'altro anche avere l'ISEE oggi è complesso è stato complesso nel periodo di lockdown per la mancanza della difficoltà di accesso ai servizi quindi tolgo anche l'occasione per ringraziare tutti gli operatori dei patronati e dei servizi sociali che hanno sempre cercato di mantenere l'emissione della certificazione necessaria che guardate non è cosa semplice allora partendo dalla possibilità di discrezionale di questa cosa noi dobbiamo però capire che questa prerogativa discrezionale io sono andata un po' a studiare la genesi di questa norma è volta a rendere più accessibile la prestazione comunale al fine di arrivare al superamento di tutte le forme di povertà che affliggono i genovesi e non a ridurre interventi o platelli interessati cosa vuol dire cioè quando si è pensato che il comune può intervenire in maniera discrezionale si è pensato che partendo dal fatto che l'ISEE ha delle lacune in se stesso e che uno strumento così come dire fisso stabile non possa essere rappresentativo della cittadinanza allora si è pensato dicendo ma chi meglio del comune diciamo titolare delle missioni dei servizi può rappresentare la cittadinanza e allora e allora io permetto al comune di inserire dei criteri aggiuntivi bene quindi è inclusivo per ampliare la platea e non per limitarla ma io continuo a pensare che se non parte l'analisi del bisogno credo che questa possibilità sia mal utilizzata e sia riduttiva e anzi determini una come dire proprio anche riduzione nella vocazione della norma di ampliare la platea e di rispondere veramente ai bisogni questo è come dire una cosa che credo sia fondamentale immaginare perché poi il tempo è proprio cambiato cioè rispetto ai servizi sociali mi sono fatto un appunto per esempio che mette in evidenza come intanto il tema della semplificazione che va verso una diminuzione di criteri di moltiplicazione dei criteri e a un incremento della valutazione di coprogettazione e di valutazione professionale quindi questa cosa va un po' come dire controcorrente e poi oggi ad oggi cioè si contraddice con l'intendimento della pubblica amministrazione di semplificare e di dematerializzare anche questo è un aspetto molto importante quindi quello che vorrei fare con questo ordine del giorno a riportare diciamo il problema e almeno immediatamente come dire dopo avviare un successivo approfondimento con l'ordine degli assistenti sociali col terzo settore con l'ordine degli psicologi con l'ASRA la regione ANCI e tutti gli enti che si occupano di povertà affinché non si proceda come dire alla all'applicazione di questo regolamento finché non sono chiariti diciamo tutte le diciamo le eh gli aspetti della regolamentazione e affinché non ci sia davvero la possibilità di essere certi che si vada verso questo anche se ripeto il tema della dematerializzazione della semplificazione richiama la pubblica amministrazione a ridurre il più possibile il numero della diciamo della della complicazione dell'accesso e invece aumenti un clima di coprogettazione e di identificazione comune di obiettivi stesso vuole con i piani individuali fatti e pensati dai professionisti quali gli assistenti sociali ehm ordine del giorno numero 8 allora l'ordine del giorno numero 8 ehm introduco il tema della figura professionale dell'assistente sociale ehm io ci ho pensato molto infatti nella sospensiva poi ho inserito questo tema del del coinvolgimento dell'ordine di assistenti sociali e la necessità eh guardate poi so che il consigliere ha detto che ha coinvolto gli uffici del comune e che rispetto e ci mancherebbe però una cosa è rivolgersi diciamo come dire agli uffici del comune di cui si è amministratore e un conto è anche avviare una discussione più ampia eh che coinvolge molti professionisti anche i professionisti della sanità i professionisti che fanno capo a servizi diversi che hanno rapporti con il comune cioè il discorso è molto più ampio e allora in questo questo regolamento ha alcuni articoli che mettono in evidenza cioè per dire ma poi come fai a fare tutti questi criteri vabbè tutti questi criteri poi se li gestiscono i servizi sociali cioè gli organi preposti all'organizzazione dell'accesso dei servizi il che vuol dire tantissimo lavoro perché eh immaginare l'organizzazione di un regolamento così complesso soprattutto che possa essere nel meno possibile passibile dei ricorsi e che possa davvero non essere come dire in qualche modo eh creare delle discriminazioni o delle iniquità eh qui c'è un fortissimo e grandissimo lavoro degli uffici dei servizi sociali e sappiamo come gli uffici dei servizi sociali e l'autonomia dei diciamo degli operatori assistenti sociali negli ATS cioè negli ambiti territoriali sociali sia fortemente messa in difficoltà dalla mancanza di personale qualcosa è stato fatto ma poco si è puntato molto in questa amministrazione all'assunzione di alcune categorie non di assistenti sociali e gli sindacati hanno sempre comunque sottolineato un favisogno importante allora se si vuole come dire complicare e articolare l'accesso in maniera più complessa banalmente quando eh ci sono state misure nazionali il governo nel momento in cui introduceva le misure metteva risorse per assumere assistenti sociali a progetto per fare compilare banalmente le domande allora qui se andiamo come dire a creare un sistema regolamentare molto articolato e particolare è necessario eh in qualche modo eh organizzare ed articolare la le domande e quindi l'accesso ai servizi diventa sempre più complesso ehm purtroppo in questo caso non tanto più complesso perché si dà la possibilità di lavorare meglio agli assistenti sociali ma lo si rende più complesso perché in qualche modo eh si limita la propria autonomia professionale quindi è necessario quanto mai immaginare un tavolo urgente con le organizzazioni sindacali al fine di analizzare il bisogno del personale alla luce delle nuove normative destinare le risorse del bilancio preventivo 2022 per l'assunzione di nuovo personale dedicato perché non è impensabile a mio avviso che il carico di lavoro che nasce dalla organizzazione e vuol dire regolamentazione perché questo è un testo politico però mentre su regolamento richiede ore e ore e ore e giorni di lavoro richiede a personale delicato e personale anche che possa facilitare aiutare i cittadini perché ci sarà poi tutto un tema di comunicazione ve discorrendo molto complesso arrivo all'ordine del giorno numero 9 eh perché in questo diciamo in questo eh provvedimento eh si parla della situazione abitativa dell'emergenza abitativa allora intanto io ripropongo un ordine del giorno che ho segnalato anche al prefetto dove approvato in data 3 marzo 2021 dove partiva dall'allarme lanciato dal SICET rispetto a 3.500 famiglie che rischiavano di rimanere senza casa a giugno 2021 a seguito del rinvio degli sfratti causa covid e dato per assodato che comunque nel momento in cui ripartivano a Genova gli sfratti queste persone sarebbero state sfrattate bene queste persone sono state sono stati avviati gli sfratti per morosità la Regione Liguria non ha finanziato più risorse rispetto al fondo affitti e non ha integrato con fondi proprio il tema della morosità incolpevole è chiaro che ritengo che questa clausola sia da non inserire all'interno dei criteri dei servizi sociali da rendere regolamentati con un regolamento di questo tipo perché o ho le persone senza fissa dimora all'interno di progetti importanti quindi come oggi a una persona senza dimora non viene chiesto l'ISEE non vengono chiesti alcuni criteri perché sono progetti importanti delicatissimi svolti in collaborazione con gli enti che si occupano di queste persone e quindi li toglierei proprio dal leggo dei servizi che si vanno a regolamentare però ripropongo questo ordine del giorno perché questo ordine del giorno da marzo ad oggi non ha avuto attuazione ed è stata approvata all'unanimità allora se vogliamo proprio regolamentare ecco proviamo però anche a fare delle cose che sono state decise in aula e non hanno mai avuto riscontro perché qui si chiedeva di magari forse oggi saremo arrivati a questa approvazione con dei dati un'analisi del bisogno mettendo insieme l'elenco delle persone sfrattate che ha in mano la procure a tutto al tribunale e alla situazione esatta della tipologia di famiglia sfrattata alla tipologia della composizione del nucleo della famiglia sfrattata perché sapete che se ci sono minori anziani c'è la possibilità da parte del comune di intervenire alla tipologia degli alloggi messi a disposizione del comune perché guardate che l'agenzia sociale per la casa ha qualche alloggio qualche alloggio per case disperate per situazioni disperate segnalate dai servizi sociali ma non può coprire certo oggi una richiesta legata a 3500 famiglie quindi essendo un'emergenza importante immaginare come disporre anche insieme al tribunale insieme alla carita all'associazione San Vincenzo De Paolo a tutti a tutti coloro che si occupano di persone strattate come procedere evitando di far sì che tutta questa roba entra all'interno dei criteri perché francamente secondo me ma non secondo me ma dal punto di vista professionale chi ha la possibilità di tenere la propria casa cerca di tenerla perché rimanere fuori casa non è mai una bella cosa allora io chiedo dato che qua si impegnava il sindaco la giunta ad attivarsi presso la regione Liguria attivare un tavolo di lavoro urgente con prefettura anci organizzazioni sindacali sul tema dell'emergenza casa insieme alle associazioni appunto tre poste ecco con questo si impegna il sindaco la giunta a rispettare la decisione del consiglio comunale dando seguito all'impegnativa dell'ordine del giorno approvato all'unanimità grazie grazie a lei consigliera Lodi consigliere Giordano per l'ultimo ordine del giorno numero 10 a lei la parola grazie presidente diciamo che come gruppo non ci stanchiamo mai di riproporre questo ordine del giorno soprattutto quando ci toccano tasti delicati come la povertà in questo caso una delibera che istituisce un regolamento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate comunali parliamo della della multa alla povertà insomma di ciò che è stato introdotto nel 2018 con la delibera 20 2018 da parte del consiglio comunale e di tutto quello che ha causato nella nostra città insomma i dati a ottobre 2019 parlavano di 217 multe senza tetto 100 euro incassati su 217 multe di cui questi 100 euro sono stati appunto una raccolta fatta di solidarietà verso la povera persona che aveva aveva avuto un provvedimento amministrativo con una multa quindi dopo questa approvazione il comitato per i migrati si è mosso in contrapposizione a questo e ha raccolto oltre 10.000 firme che comunque sono un esempio eclatante di quello che è la solidarietà e quando le persone tentano di unire le forze in contrapposizione delle scelte che vanno in una direzione sbagliata a quella che è un indirizzo sociale gli agenti proposti dalla polizia municipale si sono trovati molto spesso in difficoltà nell'applicare questo regolamento e a sanzionare persone estremamente povere il sostituto procuratore dottor Landolfi in questo avvio di diciamo di sanzioni disciplinari ha richiesto l'archiviazione di tutti i fascicoli i tempi proprio perché non c'è l'illecito penale il sindaco e l'assessore i tempi avevano promesso al comitato proprio che si sarebbero fatti parte attiva e avrebbero sotto loro spinta e sotto loro consiglio istituito la creazione avevano fatto diciamo svolto l'indirizzato dell'economia verso la produzione degli adesivi che invitavano le persone bisognose adesivi da mettere nei cassonetti dove invitavano le persone bisognose di rivolgersi agli organi preposti quali la carita Sammasuero e altre associazioni benefiche la commissione congiunta prima e settima del 22 settembre del 2019 aveva con iscritta un ordine del giorno sulla delibera del consiglio 93 istituzione regolamento e applicazione dell'ISEE ai servizi delle prestazioni sociali agevolate è proprio proposta da un consigliere nel senso dell'articolo 33 è proprio quello che oggi siamo qua a discutere ricordo le parole dell'assessore Garassino in un'intervista al fatto quotidiano e dice da questi dati risalta è virgolettato quindi non è non è neanche il giornalista è virgolettato e dice da questi dati risalta che in quanto rivolto a nulla tenente la maggior parte dei verbali non venga pagata riduggendo in pratica l'intervento a un richiamo dalla persona che compie questi atti quindi se riuscissimo a chiudere questo capitolo lo definisco vergognoso di questo indirizzo che la nostra città ha messo in atto nei confronti delle persone diciamo abbandonate anche da percorsi assolutamente particolari in cui sarebbe anche il caso di entrare nel merito noi impegniamo il sindaco la giunta a fermare l'inutile sperpolo di risorse pubbliche finanziarie perché su questo sicuramente c'è un sperpolo di risorse pubbliche finanziarie eronamente utilizzata in questa inutile lotta a un degrado un degrado che risulta un miraggio se investiamo queste risorse in questa direzione investendo invece tutte le economie possibili come in parte diciamo questa delibera indirizza al fine di combattere la povertà e le marginazioni e ad attivare come avevano promesso il sindaco e l'allora assessore campara se non sbaglio una campagna di sensibilizzazione attraverso gli adesivi sui cassinetti che invitino le persone bisognose che lo vissano appunto nei cassonetti per trovare alimenti a rivolgersi ad associazioni benefiche piuttosto che a fungare negli stessi allora terminata l'illustrazione degli ordini del giorno passiamo agli emendamenti emendamenti da numero 1 a numero 3 consigliere Mascia che è anche il primo firmatario della proposta prego grazie presidente si tratta di emendamenti che recepiscono suggerimenti che ci sono arrivati da soggetti qualificati nel corso delle commissioni consigliari li do per letti ma si riferiscono semplicemente alla giunta di articoli del codice civile che erano stati indicati come maggiormente esplicativi da parte di familiaristi intervenuti mi piace citarli l'avvocato Panfili l'avvocato l'avvocato in particolare l'avvocato Bet e quindi li do per letti ma sono semplicemente degli innesti di articoli del codice civile grazie grazie a lei ultimi due emendamenti numeri 4 e 5 consigliere Aloni grazie presidente sì erano emendamenti che anche io li leggendo poi la proposta mette valore l'emendamento 4 chiede dove dice dunque ritenuto che ecco nella premessa dopo ritenuto al punto che invece è opportuno procedere nella direzione di modificare il quinto sub punto nel seguente modo contemplare in caso del cosiddetto single persona che vive da sola per esempio al costo della vita più elevato dei genitori separati metterai invece che padri separati per il fatto che ovviamente può essere un padre una madre o un padre e poi diciamo anche qui nelle premesse del bendamento 5 nelle premesse dopo ritenuta al punto che invece è opportuno procedere nella deviazione di nel terzo sub punto dopo la parola monogenitori io eliminerei tra le virgole generalmente la madre con figli perché anche qui si fa una interpretazione di una cosa che però di fatto credo che in un regolamento non sia una valutazione di sia una valutazione troppo non determinata che non ci stia dentro di una premessa di un regolamento quindi leverei quello intanto si parla di famiglie si parla di monogenitori quindi è evidente che si parla di genitori confinti grazie allora prima delle votazioni ovviamente si esprime la giunta assessore Viale partiamo dagli ordini del giorno il primo vicepresidente Grillo parere la posizione della giunta parere favorevole grazie allora ordine del giorno numero 2 consigliera Lodi ordine del giorno numero 2 negativo ordine del giorno numero 3 negativo ordine del giorno numero 4 parere favorevole ordine del giorno numero 5 parere favorevole ordine del giorno numero 6 parere negativo ordine del giorno numero 7 parere negativo ordine del giorno numero 8 favorevole ordine del giorno numero 9 favorevole ordine del giorno numero 10 negativo grazie assessore faccio un riepilogo rapidissimo soprattutto per i proponenti dei documenti quindi il numero gli ordini del giorno con parere positivo di 10 che sono complessivamente i numeri 1 4 5 8 e 9 quelli con parere negativo numeri 2 3 6 7 e 10 possiamo passare agli emendamenti assessore emendamenti tutti favorevoli quindi gli emendamenti la giunta si esprime favorevolmente per tutti e cinque gli emendamenti allora possiamo iniziare con le votazioni se non ci sono contrarietà procederei a votare quelli con parere favorevole della giunta numeri 1 4 5 8 e 9 tutti con parere favorevole si vota grazie a tutti esito votazione in presenza sugli ordini del giorno 1 4 5 8 e 9 30 consiglieri presenti 30 voti favorevoli da remoto consigliere campanella favorevole consigliera corso consigliere ferrero favorevole consigliere grido favorevole consigliere mordino favorevole consigliere pandolfo pandolfo favorevole consigliere piondini favorevole consigliere remuzzi favorevole consigliere villa favorevole 39 voti favorevoli consiglio comunale approva i documenti consigliere pongo ora in votazione gli ordini del giorno numeri 2 3 6 7 e 10 con parere contrario della giunta si vota grazie grazie esito votazione in presenza sugli ordini del giorno numeri 2 3 6 7 e 10 30 consiglieri presenti 11 voti favorevoli 19 contrari da remoto consigliere campanella consigliere a corso contrario consigliere ferrero contrario consigliere grido contrario consigliere in mordino favorevole consigliere pandolfo favorevole consigliere pirondini favorevole consigliere pirondini grazie consigliere remuzzi contrario consigliere villa favorevole 15 voti favorevoli 24 a contrario il consiglio comunale respinge passiamo ora la votazione degli emendamenti tutti e cinque hanno parere favorevole della giunta li vado a porre in votazione complessivamente con gli emendamenti numeri da 1 a 5 tutti con parere favorevole si vota grazie a tutti esito votazione in presenza emendamenti numeri da 1 a 5 30 consiglieri presenti 30 voti favorevoli consigliere campanella favorevole consigliere a corso consigliere ferrero favorevole consigliere grillo favorevole consigliere in mordino favorevole consigliere pandolfo consigliere pandolfo favorevole consigliere Pirondini favorevole consigliere Remuzzi favorevole consigliere Villa favorevole 39 voti favorevoli il Consiglio Comunale approva tutti e 5 gli emendamenti andiamo ora in dichiarazione di voto invito i colleghi che lo desiderano a prenotarsi sulla delibera di Consiglio numero 93 non vedo il Consigliere Aloni prego, hai la parola grazie Presidente noi ci asterremo su questa delibera e guardate occuparsi di questi temi richiede grande professionalità passione ma soprattutto condivisione con partecipazione con progettazione sono percorsi che hanno visto negli anni il Comune di Genova ha sempre avuto e visto servizi virtuosi e fatti di sussidiarietà organizzazione di servizi territoriali con alta professionalità distribuiti per il territorio che in questo periodo sono molto affaticati per uno scenario del bisogno delle povertà e della fatica delle persone molto complesso un tempo si parlava di complessità di bisogno lo si leggeva e insieme si immaginavano le risposte con l'intento soprattutto di costruire un modello di città ma soprattutto un modello di servizi che rispondevano a quello che la città voleva essere il fatto di avere l'opportunità di entrare nel Medi con delle norme anche di tipo comunale attraverso l'approvazione del Consiglio Comunale è un'opportunità noi crediamo però che questa opportunità oggi abbia dei forti limiti che non richiami tutto quell'aspetto legato alla al 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 comune attraverso i propri servizi che è legato a quello di costruire e permettere a più persone possibile di avere risposte ai propri bisogni una volta che si ha contezza di bisogni stessi bisognerebbe spingere come la pubblica amministrazione spinge a fare a una semplificazione a una dematerializzazione e si dovrebbe in questa sfida spingere sempre più alla forza del lavoro professionale degli assistenti sociali degli operatori al loro fianco e ad altre figure oggi molto meno presenti come lo psicologo l'educatore perché davanti a un progetto individualizzato abbiano tutte le possibilità di aiutare quella persona perché ogni persona è portatrice di un bisogno difficilmente categorizzabile o incasellabile all'interno di categorie ristrette e guardate la cosa che se si aumentano le categorie si aumenta la risposta è non vera mi spiace la risposta la si aumenta quando so il bisogno e da questo modulo una risposta più rispondente alle esigenze del bisogno solo così io riesco a rispondere di più non aumentando i criteri perché guardate quando una persona ha un bisogno questo bisogno è talmente complesso che solo la professionalità di chi lo ha davanti permette insieme con la persona di costruire un percorso e allora il comune ai suoi professionisti ai cittadini fornisce quegli strumenti che sono i servizi per intervenire all'interno di un progetto importante educativo e individuale se rinunciamo a questo aspetto non riusciremo mai a rispondere davvero a quella che è la povertà della vita di persone che è una povertà a volte non solo economica ma povertà di altro tipo educativa povertà sociale povertà di contatti povertà di relazioni e la sinergia nasce nella forza di sapere dove dobbiamo andare io penso che nella riflessione che abbiamo fatto c'era tutta la volontà di essere in maniera come dire partecipativa ma soprattutto anche con i contributi che abbiamo dato in commissione di essere collaborativi nell'ottica di riconoscere la necessità oggi di un sistema diverso di servizi più complesso e più adeguato di riconoscere oggi la fatica degli operatori che di fronte al bisogno non hanno bisogno di aumentare la burocrazia non hanno bisogno di criteri in più ma hanno bisogno di risorse e guardate non mi dite che ci investono tante risorse sul sociale perché ho sempre pensato che per fare un buon lavoro sul sociale non è tanto l'aumentare delle risorse ma la possibilità di strumenti per dare delle risposte che è un'altra cosa quindi non è il numero delle risorse economiche ma è lo strumento abbinato ad esse allora con la nostra stensione rimaniamo in attesa e speriamo che almeno attraverso alcuni ordini del giorno approvati si partano alcuni processi che vadano verso questa direzione perché la persona è al centro ma per essere la persona al centro va aiutata ad esprimere nella complessità rispetto a un lavoro professionale che va riconosciuto costante e quotidiano e di cui purtroppo spesso si parla poco grazie grazie a lei non vedo altri consigliere Baroni prego grazie presidente questo mio intervento vuole essere un intervento di ringraziamento per chi ha proposto questa pratica questa delibera ringrazio gli uffici che sono qui presenti oggi che hanno lavorato in questi lunghi mesi più di un anno dietro a questo regolamento io credo che in questa pandemia e anche nel post pandemia questa amministrazione abbia dato abbia dato un segnale di grande attenzione e di grande ascolto del bisogno che non è un bisogno teorico raffigurato o immaginato ma è stato quello un bisogno che è stato scoperto e vissuto stando vicino alle persone quotidianamente ascoltando loro ascoltando gli operatori sul territorio le realtà del terzo settore che hanno collaborato con noi vorrei ricordare che due giorni fa abbiamo deliberato in giunta un patto di sussurietà per i prossimi cinque anni con il terzo settore per quanto riguarda le povertà estremi senza dimora così come abbiamo deliberato un ampliamento dei posti per l'accoglienza dei posti sai per le famiglie afghane così come abbiamo provveduto recentemente in questi ultimi in questi giorni a dare altri 487 mila euro di buoni spesa per le emergenze soprattutto alimentari ma non è l'elencazione di cose fatte è che non è tollerabile non è accettabile il fatto che si affermino si facciano affermazioni del tipo che bisogna partire dalla persona al centro dal bisogno lo sappiamo benissimo non bisogna essere assistenti sociali per capire questo la persona è al centro di questa amministrazione uno degli slogan che abbiamo usato è che indietro non deve restare nessuno noi quotidianamente rispondiamo a decine decine di segnalazioni che ci vengono date da persone singole dal territorio dagli assistenti sociali dalle cooperative dalle associazioni che collaborano con noi dalle parrocchie dai quartieri dalle persone normali che quotidianamente incontrano i bisogni cerchiamo di fare il possibile credo posso dirlo serenamente che abbiamo fatto stiamo facendo il nostro dovere con i mezzi che abbiamo che sono tanti con le risorse che mettiamo a disposizione che sono quelle giuste possibilmente ne metteremo anche di più e ci riusciremo ma certamente non accetto che venga si si affermi che la persona non è al centro e che questa amministrazione non conosce il bisogno poi si può discutere sugli strumenti su quello che si potrebbe fare su quello che si potrebbe meglio fare o meglio organizzare su questo non ho dubbi io sono disponibilissimo a discuterne sono a disposizione lo sapete benissimo credo che chi mi ha cercato chi ha voluto cercarmi mi abbia sempre trovato dico però una cosa che non capisco politicamente come si possa fare cinque emendamenti che sono emendamenti che la parola stessa cercano di modificare in un certo senso in una certa direzione il contenuto di una proposta si fanno gli emendamenti per modificare delle cose che ritengo anche giuste l'avrei ovviamente le ho condivise le ho votate volentieri e poi a fronte di questi emendamenti a fronte di cinque ordini del giorno condivisi dalla giunta e altri cinque no ma può discutere su questo no quattro quelli che sono però non riesco a capire politicamente come si possa non votare un regolamento che è stato oggetto di un lavoro minuzioso capillare di ascolto di cesello direi in questo anno e mezzo con gli uffici le direzioni i territori e tutti affermando che non è stato ascoltato il territorio non è stato ascoltato gli astinti sociali non è vero non è assolutamente vero e soprattutto credo che politicamente se uno fa un emendamento secondo me emenda un regolamento e una volta che il proponente accetta l'emendamento secondo me il regolamento andrebbe votato questa è la mia personale posizione politica che uso da dieci anni in quest'aula per cui lascio ad ognuno le considerazioni del caso ci vorrebbe anche oltre alle affermazioni di principio anche un po' di coerenza grazie consigliera Fontana grazie presidente ma anch'io mi associo nel ringraziare il collega Mascia per l'impegno e gli uffici che hanno contribuito a concretizzare questo documento finalmente una nuova un nuovo regolamento che oltre al mero parametro di reddito dell'ISEE introduce altri criteri che appartengono oggi a a quello che è una composizione familiare una composizione familiare che sappiamo benissimo contiene dei disabili può contenere degli anziani dei figli e anche dei disoccupati è un documento che piaccia o no rivoluziona l'accesso ai servizi sociali e in questo modo peraltro evita di considerare l'ISEE come un elemento discriminante in quanto unico elemento per poter stabilire stilare delle graduatorie ma grazie a questi criteri aggiuntivi si possono come dire si può dare un quadro reale di ciò che le famiglie stanno stanno vivendo è uno strumento di cui si aveva bisogno dire che questo documento non dà la fotografia dei bisogni sociali della popolazione ed è basato sulla semplice percezione di un singolo consigliere o forse di una maggioranza lo considero un azzardo questo documento al quale senza ombra di dubbio come gruppo della Lega abbiamo aderito e abbiamo convintamente sottoscritto rappresenta chiaramente la sensibilità e l'attenzione oggettiva che come maggioranza e come giunta si dà alle situazioni di difficoltà sociale che si stanno vivendo nella nostra città spesso da parte di persone che a volte per discrezione sembrano invisibili ma invece hanno il loro disagio e le loro difficoltà le affrontano con grande dignità avere inteso introdurre dei criteri di priorità legati alle condizioni di migliaia di famiglie significa oggi dare priorità a coloro che hanno un reale bisogno rispetto ad altri significa intraprendere una politica di un sociale reale e non di mera di mero assistenzialismo al quale invece alcune parti politiche sono invece oggi ancora particolarmente affezionate pertanto confermo che il nostro voto sarà favorevole grazie grazie consigliera Fontana consigliere Mars grazie presidente io dopo aver letto le dichiarazioni che ci sono state sul giornale stamattina sono se ero già convinto prima ora sono certo che questa riforma non ci sarebbe stata se non avessimo avuto quella persona lì che è il sindaco Marco Bucci seduto sulla suo scrano più alto di questa sala rossa perché fin dall'inizio perché fin dall'inizio ho trovato appoggio nel sindaco anche se sapevamo che questa è una regolamento che va a toccare una congere di interessi anche clientelari che non hanno ragione di essere all'interno di questa amministrazione e devo ringraziare anche l'assessore Fassio che fin dall'inizio su disposizione del sindaco mi ha dato manforte con Alex Toselli il dottor Cavalli il dottor Gandino io non ho partorito questa proposta nel solipsismo di una notte di mezza estate ma l'ho seguita l'ho ridatta l'ho rivisitata gomito a gomito con le direzioni dei servizi sociali della scuola e chiedendo ai colleghi di maggioranza che non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio di darmi una mano nel rivisitare tutte le edizioni sono state l'orella mi sembra quattro io mi ricordo tutte le volte che giravo da un anno e mezzo a questa parte c'era ancora capogruppo tra l'altro anche il collega De Benedictis di Direzione Italia tutte le volte che mandavo era un disastro perché dovevamo fare il giro di tutti i capigruppo e magari anche dei consiglieri quattro volte la stessa proposta emendata contro emendata eccetera un lavoro lunghissimo che abbiamo fatto esclusivamente ispirati dal bene comune della città perché grazie a Dio abbiamo un sindaco che non risponde alle clientele ma risponde al bene comune della città e questo per me è una cosa molto importante perché questo è solo un primo passo l'odg del consigliere Grillo che è il consigliere decano è il più sperto tra di noi il vicepresidente del consiglio comunale mette già diciamo le mani avanti su quello che sarà il percorso successivo che poi coinvolgerà la giunta e mi fa piacere che ci sia la condivisione da parte di tutti i capigruppo di maggioranza perché tutti insieme saremo insieme alla giunta per consentire questi ulteriori passaggi non è vero come ho letto che questa definizione di criteri di ulteriori selezioni torge legittimità come ho letto stamattina sul giornale forse si intendeva dire legittimazione alle figure degli assistenti sociali perché gli assistenti sociali sono tra le più alte professionalità che abbiamo nel comune di Genova sono professionisti che hanno in carico le persone sappiamo cosa significhi avere in carico le persone e le famiglie la quale complessità di valutazioni e delicatezza di valutazioni debbano essere fatte io credo che non mi sentirei rappresentato da chi mette contro gli assistenti sociali contro una riforma di questo genere che tra l'altro non corrisponde al vero perché non ci sono servizi è stato menzionato i centri estivi come servizi inesistenti io stamattina ho disturbato ancora una volta per l'ennesima volta le direzioni gli uffici per chiedere ai ragazzi ma i centri estivi non ci sono più e mi hanno risposto no c'è la legge turco ci sono i letto ci sono comunque i laboratori educativi territoriali ci sono comunque ci sono comunque le professionalità e le scelte che fanno capo esclusivamente agli assistenti sociali ma di cosa stiamo parlando ragazzi cosa perché dà fastidio il fatto di definire e dire che per meglio valorizzare le fragilità dei nuclei familiari accanto all'ISEE che è un coefficiente solo indicatore solo a livello economico si introducono ulteriori criteri di selezione che permettono al comune di Genova di andare a parità di sé andare a vedere chi c'è intorno ad una persona bisognosa se ci sono situazioni di disabilità se manca il lavoro se manca la salute se manca manca l'abitazione la casa se ci sono dei bambini se ci sono degli anziani ma cosa c'è di male io veramente non riesco a capire cosa ci può essere di male in una proposta del genere perché ribadisco io sono stato aperto a tutti gli emendamenti e sono ho accettato tutti gli emendamenti che sono stati fatti che riguardano peraltro solo le premesse della proposta di regolamento quindi ci fossero stati degli emendamenti che riguardavano anche il testo li avrei forse anche accolti nel spirito di massima disponibilità perché qui non ci sono guelfi ghibellini qua ci sono di mezzo di poveri bisognosi le persone meritevoli più fragili di questa città che non devono essere coinvolti nei percorsi individuali di chi magari si vuole candidare alle prossime elezioni come sindaco in contrapposizione a Bucci vi auguro di riuscirci perché se ci riusciamo faremo la strada spianata e vinceremo a mani bassi grazie grazie a lei consigliere Campanella grazie presidente anch'io voglio ringraziare il proponente consigliere Mascia e tutti gli uffici che vanno a lavorare dietro il lavoro è stato un bel lavoro un grande lavoro e avere un obbligo ISEE con fattore famiglia è molto importante perché si consente l'accesso ad alcune alcune prestazioni sociali anche accanto al peramito a noto per amito del reddito dell'ISEE anche ad altri soggetti quindi si aggiunge una garanzia a tutte quelle famiglie genovesi che di fatto sono in una situazione di disagio di difficoltà ma che in realtà in tutti questi anni non sono stati considerati dai servizi sociali non sono stati considerati perché erano a loro sconosciuti purtroppo la realtà economica e sociale dell'Italia ma anche di Genova è venuta a modificarsi radicalmente sia dall'entrata in vigore dell'euro e sia a seguito della pandemia Covid-19 e noi non possiamo dimenticare tutte quelle migliaia di cittadini in questo caso genovesi che si trovano attualmente in difficoltà ma che non possono accedere alcune le testazioni perché hanno un'ISEE tra virgolette troppo alto ma per sé tra virgolette troppo alto intendo che sono fuori famiglie che hanno perso il lavoro o famiglie che hanno disabili in casa o famiglie che hanno anziani in casa che nonostante non abbiano reddito ma hanno intestato un piccolo appartamento ereditato magari dalla nonna ecco che l'ISEE risulta troppo alto e tutte quelle famiglie tutte queste persone che sono ad oggi sono rimasti invisibili per colpa di un vecchio sistema che adesso andiamo a abolire e definire avranno un futuro migliore i genovesi quindi avranno una possibilità in più una tutela in più rispetto al passato e non capisco perché questo possa fare così di paura al partito democratico o ad altri in questa sala rossa in quanto si va a tutelare tutte quelle famiglie e tutte quelle famiglie di persone bisognose ci sono molte famiglie che non riescono a usufruire delle agevolazioni per distruzione per il trasporto per servizi agli anziani ma neppure servizi dei disabili perché perché solamente c'è un regolamento che si basava sull'ISEE per accedere a tali aiuti da questo invece nuovo parametro da domani anzi da oggi tra pochi minuti grazie ai comuni di Genova e a tutti quei consiglieri che tra poco voteranno a favore come faremo noi di Fratelli d'Italia i genovesi le famiglie genovesi potranno avere una tutela in più e non è una tutela da poco è una tutela che è molto importante è una tutela che non è assolutamente una percezione di un singolo consigliere ma è una grande opera una grande operazione che noi sposiamo totalmente e condividiamo con tale nuovo regolamento abbiamo quindi da oggi uno strumento in più per attuare politiche di sistema a favore delle famiglie genovesi ed è per questo che tutto il gruppo Fratelli d'Italia compatto compatissimo oggi voterà favorevolmente grazie presidente grazie consigliere campanella terminati gli interventi in dichiarazione di voto mi chiede la parola al signor sindaco per una dichiarazione conclusiva sulla proposta a lei la parola signor sindaco grazie grazie prima di tutto volevo ringraziare il consigliere Mascia per tutti quelli capigruppo che hanno proposto questa questa mozione questa delibera perché è un significativo passo avanti non so quanti sanno il numero elevato di emails e messaggi che sono arrivati a me proprio da famiglie che hanno questo problema non hanno l'ISEE sufficiente ma hanno un sacco di problemi grossi in famiglia e non possono accedere ai servizi per cui questo è un enorme direi io enorme passo avanti nell'essere sempre più vicine ai cittadini per cui grazie mi dispiace molto vengano dette certe cose in consiglio comunale ve ne cito solo alcune pensare che questi argomenti devono essere trattati solo dai super esperti è come se sul piano regolatore noi altri dovessimo essere tutti architetti altrimenti se non siamo architetti non possiamo lavorare sul piano regolatore o se ci abbiamo da fare un ponte o una struttura dobbiamo essere per forza ingegneri civili penso totalmente inaccettabile questo tipo di espressioni che il consiglio comunale deve rifiutare in toto seconda cosa quando si fanno mozioni e ordini del giorno che vengono approvate uno si chiede ma perché allora non si vuole votare la mozione che comprende scusate la delibera che comprende quegli ordini del giorno e quegli ammendamenti approvati tanto valeva fare un ammendamento in più che correggeva le cose che non andavano bene questo è un atteggiamento non solo poco corretto ma soprattutto distorto cioè non se ne capisce il senso e non si capisce proprio la volontà e il motivo per cui si devono fare queste cose che non riguardano assolutamente le modalità operative con cui noi dovremmo comportarci se non altro per un discorso di correttismo per cui io chiedo a tutti di rivedere queste posizioni e di fare un bellissimo servizio alla città approvando tutti all'unanimità questa questa delibera perché rappresenta veramente un grande passo avanti per la città e i cittadini stessi verranno a ringraziare per aver fatto questo lavoro per tutti noi grazie grazie signor sindaco consigliera Lodi per prego volevo presidente richiamare al fatto che di solito negli interventi politici non si interviene sulle modalità di lavoro dei consiglieri comunali ogni consigliere comunale in quest'aula è libero di lavorare come me quindi credo che il sindaco non abbia nessuna autorevolezza autorità no però consigliera Lodi può dire quello che vuole ma non può intervenire sulle modalità perché qui fino a che non mi pare che abbia obbligato il sindaco ha trovato da dire non mi pare che abbia trovato da dire consigliera Lodi abbia pazienza il signor sindaco ha fatto un ragionamento che può essere condiviso o meno consigliera Lodi ma non ha costretto o chiesto di eseguire una determinata condotta ai consiglieri comunali allora prima di votare mi chiede solo una la parola al segretario generale per un rilievo su un articolo del regolamento allegato alla delibera prego avvocato Criscuola lei la parola sì solo per far presente lo possiamo considerare diciamo una rettifica d'ufficio la necessità di allineare i contenuti dell'articolo 16 del regolamento in ordine all'entrata in vigore con il contenuto del comma 5 dell'articolo 6 dello statuto comunale che prevede che i regolamenti entrano in vigore i decorsi 15 giorni di pubblicazione dopo che la delibera è divenuta esecutiva quindi la delibera diventa esecutiva il regolamento viene pubblicato per altri 15 giorni e diventa esecutivo decorsi il quindicesimo giorno ma possiamo considerarlo una rettifica d'ufficio perché questo è quanto prevede lo statuto che rimane a verbale grazie segretario generale allora pongo in votazione la delibera di consiglio la numero 93 16 marzo 2021 istituzione del regolamento per l'applicazione dell'isee indicatore situazione economica equivalente ai servizi alle prestazioni sociali agevolate comunali nella versione emendata si vota per l'application che non ascoltare un'esercizio a cosa fa non l'amore non e capite è il Grazie a tutti. Esito votazione in presenza, 30 consiglieri presenti, 19 voti favorevoli, 11 astenuti e 11 astenuti. Da remoto, consigliere Campanella, favorevole, consigliere Accorso, favorevole, consigliere Ferrero, favorevole, consigliere Grillo, favorevole, consigliere Immordino, consigliere Pandolfo, astenuto. Consigliere Pirondini, astenuto, consigliere Remuzzi, consigliere Remuzzi, favorevole, consigliere Villa, astenuto. Remuzzi, favorevole. Sì, sì, abbiamo acquisito il suo voto, consigliere Remuzzi. 24 voti favorevoli, 14 astenuti, consiglio comunale approva la delibera. Passiamo ora al secondo punto, all'ordine del giorno, del Consiglio di Erlo, in discussione, la delibera 422, 6 ottobre 2021, iniziativa anche questa, di consiglio, approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare per una Liguria amica dei bambini e libera dalla plastica. Su questa proposta sono stati presentati due ordini del giorno, uno a firma del consigliere Grillo e uno del consigliere Giordano. Consigliere Grillo, a lei la parola per l'illustrazione. Prego. Dunque, l'osso l'ordine del giorno, evidenzia che occorra attivare iniziative finalizzate a coinvolgere i giovani sugli obiettivi dell'odierna delibera. Ritiamo poi la seduta del Consiglio comunale del 13 ottobre 2020, nel corso della quale sono state approvate alla unanimità le sottoelencate colleghe allegate iniziative consigliari. La mozione del 2020 Consiglio comunale dei ragazzi, con allegato mi ordine del giorno. Ritiamo inoltre la delibera del Consiglio comunale del 21, istituzione della consulta dei giovani del Comune di Genova. Ciò detto, e per quanto ovviamente nelle premesse richiamato nell'ordine del giorno, l'ordine del giorno impegna sindaco aggiunto a attivare iniziative urgenti nei confronti del Consiglio comunale dei ragazzi e della consulta dei giovani, ponendo alla loro attenzione il contenuto dell'odierna delibera, al fine di sensibilizzarli e impegnarli sugli obiettivi che la delibera specifica nel dettaglio. Volevo, Presidente, poi comunicarle che per quanto riguarda il mio emendamento, sentita la Segreteria Generale, lo ritiro. Grazie. Esattamente, io non l'ho detto, Vice Presidente Grillo, ha fatto bene lei, quindi avete già chiarito l'aspetto con la Segreteria Generale. Consigliere Giordano, l'altro ordine del giorno sulla proposta. Prego. Grazie. In questa ordine del giorno si richiama la delibera, la delibera dei contenuti molto condivisibili, anzi che apre un sentiero che dovrà essere sempre comunque investito di economie e di indirizzi politici che vanno nella direzione giusta. Questo ordine del giorno richiama il 27 marzo 2019, dove è stata approvata dal Parlamento europeo la direttiva intitolata sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente e introduce nell'Unione Europea misure per la riduzione dei rifiuti marini in plastica e che in particolare prevede la messa al bando a partire dal 2021 dei prodotti usa e gette in plastica tra cui figurano posati bicchieri e piatti. La mozione 79 2018 che avevamo depositato, discussa e approvata nella seduta del Consiglio Comunale del 4 dicembre 2018 che un'altra volta andava nella direzione di una sperimentazione sul lungomare, sulle spiagge della nostra città, in particolare su una piccola percentuale. Il WWF ha recentemente affermato che il 95% dei rifiuti che soffocano i nostri mari è fatto di plastica, ogni anno decine di migliaia di trattarughe, uccelli e cetacee muoiono per le polve di buste, cannucce, contenuti dal cibo, bevande, eccetera. Nel 31 marzo 2019 sulle coste della Sardegna è stata trovata morta un capidoglio femmina con 22 kg di plastica nella palla. Mare in l'Inter, la poltiglia di rifiuti in mare, affligge tutto il mondo marino, non solo in Italia e ogni paese ha dover di applicare le politiche per contrastare. Allora Ministro dell'Ambiente Costa nel 2019 aveva sottolineato la necessità di avviare al più presto il percorso di dismissione delle plastiche monouse e ha proposto il disegno di legge Salva Mare. Nella nostra regione il 30% degli stabilimenti balneari ha adottato le misure di plastic free, sostituendo piatti e bicchieri di plastica con soviglie di cellulosa e usando cannucce in bambù e bottigliette di vetro ai tavolini e dei orsi. Questa ordine del giorno impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere una sperimentazione che preveda su tutto il lungomare cittadino il divieto di uso di plastica monouso, a rendersi disponibili per una commissione consigliare sul tema plastic free con tutte le associazioni promotrici dei scioperi globali per il clima, per affrontare in modo ampio il tema urgente della dismissione dell'uso della plastica entro quest'anno e richiamare anche la responsabilità della pubblica amministrazione, quindi a eliminare ovvio possibile l'utilizzo della plastica all'interno della pubblica amministrazione. Grazie consigliere Giordano, questa è una delibera diciamo di iniziativa di consiglio che ho portato io all'attenzione, quindi do io il parere sui due documenti che sono stati proposti dal consigliere Grillo e dal consigliere Giordano, il parere è favorevole su entrambi i documenti, consigliere Giordano le chiedo, al primo punto dell'impegna attiva che è sicuramente condivisibile, sulla promozione della sperimentazione, se possiamo inserire, valutare di promuovere, visto che anche al punto successivo lei direttamente ha messo ovve possibile, quindi grazie, accetta quindi questa mia modifica, lo ripeto per gli uffici, primo punto dell'impegna attiva, valutare di promuovere. Grazie. Possiamo andare quindi in votazione su questi due documenti, che vorrei appunto in votazione congiunta con parere favorevoli, in questo caso mio, quindi pongo in votazione l'ordine del giorno numero 1 e 2, sulla delibera 422, con parere favorevole, si vota. Grazie. Grazie. Esito votazione sui due ordini del giorno, sulla delibera di consiglio 422, 30 consiglieri presenti in aula, 30 voti favorevoli, da remoto consigliere Campanella, favorevole, consigliere Accorso, favorevole, consigliere Ferrero, favorevole, consigliere Grillo, favorevole, consigliere Immordino, favorevole, consigliere Pandolfo, favorevole, consigliere Pirondini, favorevole, consigliere Remuzzi, favorevole, consigliere Villa, favorevole, 39 voti favorevoli, il consiglio comunale approva i due ordini del giorno. Ci sono richiesti gli interventi in dichiarazione di voto, sulla delibera di consiglio, non ne vedo, quindi la vado a porre in votazione, quindi la delibera 422, 6 ottobre 2021, approvazione proposta di legge di iniziativa popolare per una Liguria amica dei bambini e libera dalla plastica. Si vota. Grazie. Grazie. Esito votazione in presenza sulla delibera di consiglio 422, comprensiva dell'immediata eseguibilità, 30 consiglieri presenti, 30 voti favorevoli, da remoto consigliere Campanella, favorevole, consigliere Accorso, favorevole, consigliere Ferrero, favorevole, consigliere Grillo, favorevole, consigliere Immordino, favorevole, consigliere Pandolfo, favorevole, consigliere Pirondini, favorevole, consigliere Remuzzi, favorevole, consigliere Villa, favorevole, 39 voti favorevoli, consiglio comunale approva questa proposta che poi verrà trasmessa al Consiglio regionale della Liguria. Passiamo ora alle mozioni, la prima calendarizzata oggi all'ordine del giorno, la numero 90, 26 luglio 2021, protocollo di intesa con l'associazione, cui acronimo è PESCAS, proposta dai consiglieri del gruppo Vince Genova, consigliere Abrusoni, a lei la parola per l'illustrazione. Grazie Presidente, l'associazione PESCAS è un'associazione di professionisti e di esperti per la salvaguardia e la cultura dell'ambiente e della salute a sede legale a Genova e anche delle sedi operativi a Milano e a Firenze. L'associazione PESCAS ha lo scopo di svolgere attività volte alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni degli ambienti naturali, degli ambienti di vita e degli ambienti di lavoro, di tutelare la salute nonché la promozione della cultura, della legalità e della correttezza di comportamenti proprio in relazione ai suoi temi che ho appena citato. Tra le tematiche ambientali, importante è l'acustica, le emissioni e le immissioni di agenti inquinanti, la riqualificazione dei luoghi di vita e di lavoro. Naturalmente l'attività è improntata a perseguire il bene e l'interesse pubblico. Con questa mozione riteniamo, noi consiglieri di Vince Genova, che sia d'interesse di questa amministrazione definire e mettere in atto delle forme integrate di collaborazione con questa associazione, sia sul piano didattico che formativo che naturalmente progettuale, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria. Pertanto impegniamo il Sindaco e la Giunta a valutare la stipola di un protocollo d'intesa con l'Associazione Pescas allo scopo di promuovere la collaborazione a titolo gratuito tra le parti per le finalità istituzionali individuati dai rispettivi statuti. Le linee di collaborazione potrebbero riguardare L'organizzazione e la promozione di progetti di alta formazione e aggiornamento tecnico-giuridico, con particolare attenzione alla materia dell'inquinamento acustico. L'ideazione e attuazione di progetti finalizzati alla riqualificazione di spazie, aree o immobili di proprietà o di interesse pubblico, con l'obiettivo di conseguire il miglior comfort ambientale e benessere possibile per i loro fruitori. Azioni di promozione attraverso pubblicazioni, convegni, incontri, dibattiti, naturalmente aperti al pubblico, dei temi sullo sviluppo sostenibile, sull'economia circolare, sull'educazione al rispetto dell'ambiente, a fine sempre di favorire comportamenti virtuosi. Questo è sempre finalizzato per un miglioramento continuo delle condizioni degli ambienti di vita. Grazie. Grazie, consigliere Brusoni. Prima di affrontare la discussione in aula, la parola al vicepresidente Grillo per l'ordine del giorno su questa mozione. Prego, consigliere Grillo. Dunque, l'ordine del giorno, nelle premesse, richiama alcuni punti rilevanti della relazione, tra le quali le tematiche ambientali, in particolare l'acustica, le emissioni di agenti inquinanti, la valorizzazione dei luoghi di vita e di lavoro ed altro. Quindi, tralascio altri punti che ho elencato nelle premesse. Richiamo l'ordine del giorno che il Consiglio Comunale ha colto come raccomandazione nella seduta del 18 febbraio del 2021, quando è stata approvata la modifica dello Statuto Comunale del Decentramento Municipale. Quindi ci ho detto con l'impegnativa. Impegniamo Sindaco e Giunta per i seguenti addempimenti. Invitare i municipi a segnalare alla Giunta Comunale le criticità del proprio territorio. Al punto 2, audizioni periodiche delle competenti commissioni consigliari con il Comando Polizia Municipale, Società Autostrade per i tratti soprastanti e confinanti con le abitazioni. Ovviamente poi anche nel corso delle eventuali audizioni altri soggetti aventi titolo. Grazie. Grazie Vice Presidente Griglio. Allora, prima di andare e di dare la parola alla Giunta, c'erano interventi prenotati. Consigliere Terrile in discussione generale. Prego. Presidente, sono un po' senza parole leggendo il testo della mozione, perché credo che in quattro anni, ma forse anche chi ha più esperienza di me può testimoniarlo, non c'è mai capitato di dover esaminare una mozione in cui si legge di stabilire un protocollo di intesa con un'associazione senza che di questa associazione si sappia nulla. Nella cartella atti consigli non c'è una riga del profilo di questa associazione, chi sono, che cosa fanno, che cosa non fanno. Leggo nelle premesse che i rappresentanti dell'associazione con cui la sottoscritta più volte conferito, cioè noi votiamo un testo in cui diciamo che la sottoscritta più volte conferita, cioè io davvero mi chiedo e chiedo anche alla Segretaria Generale, diciamo se capisco che alla fine si valuta la stipula di un protocollo e quindi come dire tutta aria fritta, però prima dell'aria fritta c'è anche un po' come dire il ruolo di ciascuno di noi, il ruolo di ciascuno di noi, ciascuno di noi intendo i consiglieri, intendo gli uffici, intendo il Presidente del Consiglio, perché ecco come dire non è teatro, siamo nel Consiglio Comunale della Sesta Città d'Italia e nel Consiglio Comunale della Sesta Città d'Italia al terzo punto dell'ordine del giorno viene presentata una mozione che dice di collaborare con un'associazione di cui nessuno sa nulla, aggiungo che noi voteremo un testo che dice ritenuto che sia di interesse di questa amministrazione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione con questa associazione, cioè è interesse dell'amministrazione comunale, cioè è interesse dell'amministrazione comunale definire delle forme di collaborazione con l'associazione pesca, cioè il minimo che dovrebbe essere che ci vengano foriti i documenti che ci descrivano gli obiettivi, il lavoro svolto, il profilo degli associati e dopo l'esame di questa documentazione allora torniamo, cioè il minimo è torniamo in commissione, facciamo una commissione, audiamo i rappresentanti di questa associazione che magari ci descrivono, tra l'altro guardate hanno un sito internet, l'associazione è stata fondata nell'agosto 2020, non stiamo parlando agosto 2020, agosto 2020, ecco, quindi dopo un anno di vita di questa associazione l'amministrazione comunale ha interesse. Io non so chi siano, lo denuncio chiaramente, come probabilmente nessuno di noi qua dentro, però penso che prima di votare sì, no, astenuto, penso che il minimo sia avere gli elementi per votare, quindi chiedo, per arrivare al punto, la mia proposta è torniamo in commissione, audiamo i rappresentanti di questa associazione e ci vengano esibiti dei documenti, dei progetti anche di collaborazione e poi votiamo la mozione. Mi sembra una proposta di buon senso quest'ultima, mi chiede la parola in mozione d'ordine alla consigliera Brusoni, prego, consigliera Brusoni. Ho ascoltato l'intervento del consigliere Terrile, diciamo che mi stupisce un po' l'aggressività, perché evidentemente sembra che noi della maggioranza abbiamo sempre qualche truschino, evidentemente non lo so, chi si comporta con questa aggressività evidentemente è abituato a muoversi in maniera diversa, in maniera innocente come normalmente facciamo tutti quanti noi e solo ed esclusivamente per il bene della nostra città e quindi indubbiamente c'è, le premesse c'erano, si parla di ambiente, fra l'altro normalmente è anche un è anche argomento. Mi formuli la mozione, consigliera, se non la devo sì. Sì, ma mi sono abbastanza sagginalmente, non alzo mai il nome. Mi sembra un'ottima idea, perché li invitiamo, facciamo una bella commissione, quindi verranno a presentarsi, saranno contenti e saranno ancora più soddisfatti perché si faranno ancora di più conoscere. Quindi sono contenta, grazie. Bene, allora ribadisco e poi riassumo ovviamente, ruolo impone, di la proposta che è stata condivisa dalla prima firmataria, quindi che ha fatto come si è formulato il consigliere Terrive, se non ci sono contrarietà, l'atto viene, il documento viene ritirato e chiedo, viene ritirato dal consiglio e lo mandiamo inviato in commissione alla competente commissione consigliare, così avremo modo di conoscere, di vedere anche i documenti costitutivi. Consigliere Pignone, mozione d'ordine anche lei, perché consigliere Alodi sempre in mozione d'ordine, però è inviato in commissione, la discussione è ritirato dalla discussione ora in consigliere, mozione d'ordine consigliere. Allora, vediamo se è una mozione d'ordine, prego. No, se è una mozione d'ordine, mi può parlare, vedrà che è una mozione d'ordine. No, chiedevo che visto che è una cosa abbastanza insolita di questa mozione, però dato che la, per fare questa proposta, dato che la consigliere ha appunto fatto nelle premesse di importanza e tutta una serie di argomenti, proporrei che a questa commissione poi vengano audite tutta una, perché sennò facciamo una questione preferenziale e dato che anche le commissioni è complicatissima averle, l'assessore Campo ora è d'accordo, tutta una serie di associazioni che svolgono lo stesso obiettivo, le stesse cose di questa associazione, sennò io non vorrei neanche... Va bene, va bene, questo sarà un tema che potrete affrontare col Presidente della competente commissione. Consigliere Laura, anche la emozione... Consigliere Pignone, sempre in mozione d'ordine, con spreco. Ma, allora, siamo partiti secondo me un po' alla rovescia, nel senso che quello che mi preoccupa un po' di questo documento è il fatto di presentare appunto un'associazione nuova di professionisti e per cui il fatto di impegnare una... lo dico come elemento generale, cioè non è tanto il documento in sé, ma vuol dire come indirizzo politico. Noi siamo qua per dare indirizzi politici. E il discorso della promozione non ci sta tanto. Se non fosse che, mi aspetterei a questo punto che l'assessore Campo o assessori competenti di certi argomenti dicessero in linea di indirizzo di certe cose, noi stiamo cercando, valutando, facendo, perché cose di questo genere gli assessori e gli assessorati le fanno già di fatto, cioè di incontrare associazioni o questo è nell'ordine delle cose e poi si può promuovere, fare, bregare. Qui siamo un po' alla rovescia e però alla rovescia nel momento in cui io leggo quali sono le indicazioni che si propose dall'associazione stessa e non so come dire, non è un indirizzo politico questo, vuol dire come faccio io a promuovere una cosa? Perché io lo dicevo con il senso generale, chiederei anche agli uffici e alla segreteria magari di valutare prima di fare questo, di portarlo diciamo in aula, perché ci troveremo in difficoltà. Il rilievo è corretto, consigliere Pignone, sull'ammissibilità dei documenti, ripeto, poi sul resto dei temi potrà essere affrontato in una competente commissione. Consigliere Laura? Sì, grazie. Io non sono qui per difendere la collega perché non ha bisogno di essere difesa, però siete diciamo abbastanza ingenerosi nei suoi confronti perché avete dipinto questa mozione come se fosse una traghettatura di interesse. Non lo è assolutamente, io credo che voleva portare sicuramente alla ribalta gli interessi non della singola associazione ma delle finalità. Quindi ecco, giustissimo andare in aula di commissione, discutere sulle finalità e presentare tutte le associazioni perché sono convinta che la collega Brusoni non voleva assolutamente mettere i fari solo su un'associazione ma voleva eh portare alla ribalta quello che fanno queste associazioni. Grazie anche il suo consigliere Pignone, sempre in mozione d'ordine. Prego. Sì, mozione d'ordine. Forse non sono stato chiaro, provo a riproporre diciamo quello che intendevo. Allora, se c'è una una commissione, un'apposita commissione che parla di questi argomenti e dice facciamo un'analisi con cui diciamo viene anche proposta e dai consiglieri e da chi ovviamente anche magari su sollecitazioni di assessori che riguarda tematiche di questo genere a questo punto in audizione possiamo ascoltare chi propone cose. Era questo perché altrimenti diventa. Io l'ho intesa perfettamente così consigliere Pignone sarà mia premura vigilare affinché ciò si verifichi in quella commissione. Bene, passiamo al successivo punto. L'atto presentato dal gruppo del Partito Democratico, prima firmataria consigliera Lodi a cui cedo la parola per l'idottazione. Prego consigliera Lodi. Grazie presidente, grazie per questa mozione messa all'ordine del giorno perché so che risponde un'esigenza importante da parte di categorie seguite appunto con attenzione da questo consiglio comunale nella vita di tutti i giorni. Questa mozione diciamo propone l'oggetto di una mozione approvata all'unanimità dal consiglio del municipio quarta media Valvisagno in data 15 luglio 2021 e la mozione del municipio ripropone alcuni aspetti che leggerei in maniera così proprio letterale perché è molto importante tecnicamente di cosa stiamo parlando. Intanto nella premessa si premette che i semafori di attraversamento pedonali sono utilizzati dalla categoria di ipovedenti e ciechi per gli spostamenti quotidiani. I suddetti impianti semaforici sono in massima parte sprovvisti di ausilio acustico indicante il via libera all'attraversamento e lo scadere del tempo a disposizione per il medesimo quindi dispositivo fondamentale. Tra i pochi semafori provvisti di ausilio acustico alcuni di vecchia data non sono più funzionanti ad esempio quello di via Cantore. Considerato che a Genova ci sono circa 2200 tra non vedenti e ipovedenti e tantissimi anziani ultra 65 anni che pur non essendo ipovedenti certamente sono persone con minore capacità visiva legata all'invecchiamento e considerato che i semafori da equipaggiare prioritariamente sono quelli dove sono allocati i servizi pubblici per la cittadinanza per esempio iniziare a farlo dagli accessi delle stazioni ferroviarie o dei servizi ed uffici comunali, le sedi asle, gli ospedali, le sedi delle poste eccetera eccetera. Tutto ciò premesso appunto la mozione della giunta municipale diceva di attivarsi nei confronti della giunta comunale e città metropolitana per farsi carico di un controllo generale dell'applicazione acustica su tutti gli impianti semaforici che prevedano l'attraversamento pedonale e dove è mancante prevederne l'inserimento. E poi la presente mozione viene sottolineato e supportata dall'Associazione Retinite Pignomintosa Ligure e dalla Unione Italiana Cecchi e dall'Istituto Chiossone. Quindi con questa diciamo riproporre, riportare questa diciamo mozione che viene presentata appunto all'interno di una di un lavoro, tengo a sottolineare perché il municipio della media Valvisagno ha fatto un lavoro molto approfondito su tutto il tema delle barriere, delle barriere architettoniche e lo ha posto diciamo a servizio della città perché ovviamente il problema non è solo relativo alla zona del municipio della media Valvisagno ma sicuramente un tema importante. Con questo appunto invece riproponendolo si impegna il sindaco e la giunta comunale a dare riscontro al municipio media Valvisagno a quanto richiesto, a meno che non sia stato fatto nel frattempo, nell'impegnativa della mozione relativamente al controllo dell'applicazione dell'acustica su tutti gli impianti semaforici che prevedono l'attraversamento pedonale. Grazie a lei, consigliera Lodi, allora discussione aperta, consigliera Venente si prenotato, prego lei la parola. La ringrazio Presidente, ma io trovo che ogni attenzione che il Consiglio Comunale pone nei confronti di persone che hanno difficoltà nel deambulare lungo le strade delle strade, i marciapiedi della nostra città sia un'azione positiva quindi da sostenere e quindi noi come Gruppo Italia Viva voteremo a favore di questa mozione. Volevo sottolineare un altro aspetto che oltre ai cicalini che aiutano sicuramente le persone ipovedenti sarebbe anche opportuno prendere in considerazione la messa in opera dei codici Logist che in prossimità degli attraversamenti pedonali possono ulteriormente aiutare le persone che hanno difficoltà nel visuale perché con il loro bastoncino sentono e con la suola delle scarpe sentono dove sono questi rilievi in queste piastrelle e possono individuare il percorso che li può accompagnare agli attraversamenti pedonali. Ricordo, in conclusione del mio intervento, che a Genova esiste un istituto che è uno dei più avanzati in Italia per l'assistenza, la cura delle persone cieche o ipovedenti che è l'istituto Chiossone e quindi c'è una lunga tradizione di attenzione nei confronti di queste persone. Quindi se riuscissimo davvero tutti quanti insieme a portare avanti un risultato ovviamente in maniera progressiva per fare in modo che nella nostra città ci siano sempre meno barriere architettoniche perché oltretutto, oltre i cicalini, oltre i codici Logist, bisogna sempre ricordare che spesso e volentieri persone prive di senso civico continuano pervicacemente a posteggiare le proprie automobili sui marciapiedi, non pensando alle persone che vedevano deambulare per non dire, per non parlare di quelle persone che senza avere titolo continuano pervicacemente a posteggiare nei posteggi dedicati ai portatori di handicap. Quindi da questo punto di vista qua ci vuole un salto di carattere culturale di un'intera comunità, però dare un segnale già che vada in questo senso io credo che sia molto molto importante perché vale la pena ricordare che queste persone necessitano di tutta l'attenzione possibile da parte di una città che vuole definirsi città civile, città europea. Grazie. Grazie consigliera Venente. Consigliera Laura, prego. Sì grazie. Una mozione interessante, una mozione giusta. Logicamente noi sappiamo che l'assessore Campora con l'ufficio mobilità è già diciamo indirittura di questo di questa fotografia che voi giustamente richiedete. Io colgo l'occasione per fare i complimenti all'associazione perché l'associazione italiana Cechi sta facendo un lavoro molto all'avanguardia. Sono persone che sicuramente hanno delle difficoltà però l'affrontano in maniera concreta e sono assolutamente come si suol dire sul pezzo perché non mancano di contattare le istituzioni, di cercare con i loro rappresentanti di ottenere soltanto quello che è giusto come ha detto giustamente il collega scusate è avvenente per abbattere quelle barriere che hanno un nome strano no? Barriere ma sono soltanto delle difficoltà oggettive a non attraversare, a non scendere, a non capire perché uno deve sbattere o in un motorino o in una bicicletta attaccata a un palo e non ci può essere un pochino di più di ordine. Quindi io so che l'assessorato di Campora sta lavorando in questo senso e queste emozioni perché dico che sono belle? Perché sono le emozioni che ci aspettiamo e che vogliamo e che vorrei da una minoranza illuminata. Emozioni che stimolano la velocità di una giunta ma soprattutto che si allineano per risultati importanti per rendere la nostra comunità eh più vivibile per tutti. Grazie. Grazie consigliera Lodi. Allora non vedo più richieste di intervento. Assessore Campora la posizione della giunta. Prego. Grazie presidente. La posizione della giunta è di di favore verso questa eh questa mozione. faremo queste queste verifiche eh ritenendo comunque il tema che è stato gli argomenti oggetto della mozione prioritari e rientrano in quelle che sono poi le linee di mandato della dell'amministrazione. Quindi ci attiveremo in tal senso quindi il parere favorevole. Grazie. Allora direi che la discussione se non ci sono interventi in dichiarazione di voto che sono stati diciamo assorbiti dai precedenti interventi. Possiamo andare in votazione. Mozione quindi in votazione è la mozione numero 103 3 settembre 2021. Ausilio acustico ai semafori per ciechi ed ipovedenti. Parere della giunta è favorevole e quindi si vota. Grazie. Esito votazione in presenza trenta consiglieri presenti trenta voti favorevoli da remoto consigliere Campanella. Favorevole. Consigliera Corso. Consigliera Corso. Presidente. No non l'abbiamo sentita può ripetere il voto. Favorevole favorevole. Grazie consigliere Ferrero. Favorevole. Consigliere Grillo. Favorevole. Consigliere Imordino. Favorevole. Consigliere Pandolfo. Favorevole. Consigliere Pirondini. Favorevole. Consigliere Remuzzi. Consigliere Remuzzi. Consigliere Vila. Favorevole. Mi ha sentito il consiglio in questione Remuzzi. Sì, grazie consigliere Remuzzi. Trentanove voti favorevoli. Consiglio Comunale approva la mozione 103. Ora passiamo alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. La mozione 134 26 ottobre 2021. Chiusura notturna Giardini Catellani Apei. Atto presentato dai consiglieri del gruppo Italia Viva ma sottoscritto anche da numerosi altri consiglieri. Consigliere Crivello, consigliera Fontana, consigliera Brusoni, consigliere Ternile, consigliere Baroni, consigliere Gambino, consigliere santi e consigliere Pirondini. Consigliere Avvenente, illustra lei, prego. Ringrazio Presidente e così come ringrazio lei, ringrazio anche tutti i capigruppo in rappresentanza dei gruppi consigliari, dei loro colleghi consiglieri. Insomma, si tratta di semplicemente di chiedere la possibilità di poter rinnessere delle cancellate per poter chiudere nelle ore, almeno nelle ore notturne, i giardini catellani. Perché questa richiesta? Perché molti cittadini, molte famiglie che portano i loro bimbi a giocare in quel posto lamentano che, è già successo diverse volte, i bambini si tagliano le mani perché durante la notte persone prive di ogni senso civico frequentano quei luoghi, bevono birre, spaccano bottiglie dovunque, distruggono la parte del listellato di legno con il quale sono costruite le gradinate dove le persone dovrebbero sedersi. Insomma, vandalizzano un'area che è stata realizzata con tanti soldi pubblici e di fatto ne impediscono la fruizione alle persone che durante la giornata gradiscono stare insieme, far giocare i bambini, stare a guardersi l'aria libera discutendo serenamente. Queste esperienze sono già state vissute in Piazza Melis a Cornigliano dove è stato messo qualche anno fa a dimora una recinzione, devo dire che dà un ottimo servizio perché durante il giorno viene lasciata aperta, le persone possono entrare tranquillamente e viene chiuso durante le ore notturne. Qualche mese fa è stato proceduto in una stessa maniera per quanto riguarda Piazza Settembrini a San Piazzarena dove sostanzialmente avvenivano le stesse cose e anche lì devo dire che i cittadini e residenti danno segno di essere soddisfatti perché si è evitato il perpetuarsi di atti vandalici che sono assolutamente incomprensibili visto che riguardano il patrimonio che appartiene a tutti. Nel nostro Paese da qualche anno a questa parte si è malinteso il concetto di cosa pubblica. La cosa pubblica è di tutti, qualche d'uno pensa che sia di nessuno e quindi si permette il lusso di maltrattarla e di considerarla come se fosse cosa di nessuno. Così non è perché nel momento stesso che uno perpetua un atto vandalico impedisce a un altro cittadino che è altrettanto proprietario come lui, magari più consapevole di lui, di poterne fruire e quindi in nome del fatto della tutela delle persone più deboli, quindi dei bambini, delle persone anziane, noi chiediamo di valutare appunto la messa a dimora di una recinzione che possa consentire la tutela di un bene pubblico che deve essere a disposizione di tutti, di tutte le famiglie, di tutti i bambini, di tutti gli anziani che devono andare lì. Quindi semplicemente questa è la sintesi dell'illustrazione della mozione. Grazie. Grazie a lei, consigliere avvenente. Ci sono richieste di intervento, sia in discussione che in dichiarazione di voto. Non ne vedo, quindi darei il parere, cioè darei la parola, scusate, all'assessore Campora. Risponde lei o all'assessore Viale? Non vedo però perché l'assessore Picciocchi a Roma, lei è stato delegato all'assessore Picciocchi. Prego, assessore Campora. Grazie, Presidente. Sono delegato e quindi il parere è favorevole. Grazie. Nuova figura istituzionalizzata all'interno del Comune di Genova. Grazie, assessore Campora. Quindi pongo in votazione la mozione 134, 26 ottobre 2021, chiusura notturna Giardini Catellani-Apegli, con parere favorevole della Giunta. Si vota. Grazie. Grazie. Esito votazione in presenza, 27 consiglieri presenti, 27 voti favorevoli, da remoto consigliere Campanella, favorevole. Consigliere Accorso, favorevole. Consigliere Ferrero, favorevole. Consigliere Grillo, favorevole. Consigliere Immordino, favorevole. Consigliere Pandolfo, favorevole. Consigliere Muzzi favorevole consigliere Villa favorevole 36 voti favorevoli il consiglio comunale approva la mozione numero 134 passiamo ora alle interpellanze la prima calendarizzata a sesto punto all'ordine del giorno interpellanza numero 138 12 ottobre 2021 messa in sicurezza pavimentazione salita mascherona consigliere Pierondini a lei la parola prego chiedo cortesemente un po di silenzio in aula grazie sì grazie presidente di salita mascherona purtroppo devo dire ci eravamo già occupati in in precedenza con una precedente appunto interrogazione nella quale già segnalavo che questa è di fatto una creosa del nostro centro storico che purtroppo molto spesso diventa pericolosa a causa del del fatto che è formata da una mattonata centrale che nel momento in cui o piove o comunque c'è una forte umidità diventa estremamente scivolosa e vede costantemente persone che che cadono in quella via questo accade ormai da anni tra lì nei pressi c'è una scuola materna e di conseguenza ci sono bambini genitori e nonni che quindi vanno e vengono e utilizzano quella salita quando segnalammo questa cosa direi più o meno un paio d'anni fa ci fu risposto che di fatto la situazione era sotto controllo quello che è un po spiacevole il fatto che intanto non sia vero questo perché ad inizio ottobre una signora di nuovo caduta e si è rotta anche un polso e purtroppo le cadute sono veramente all'ordine del giorno proprio per la anche per la fattività di questo tipo di strada che è sì tipica della della nostra città però è chiaro che in alcune zone di particolare umidità e comunque in determinate condizioni ad esempio quando piove diventano possono diventare come in questo caso pericolose il provvedimento che viene preso sistematicamente è quello di transennare la parte centrale di questa via ma è evidente che questo non è minimamente una soluzione del problema anche perché intanto le transenne sono comunque facilmente spostabili dopo un po di giorni diventano praticamente inutili un po perché comunque non coprono totalmente la parte pericolosa di conseguenza la gente continua a cadere e continua a farsi male e ci sono diverse retticità le realtà a questo aspetto prima viene la salute delle persone è andata via la voce delle persone che scusi consigliere pirondini perché abbiamo perso un pezzo perché è andato via l'audio ma l'assessore mi dice che deve rispondere che ha compreso prego vada pure avanti mi sente meglio così presidente si ora la sento bene senza interruzioni prego concludo semplicemente dicendo che il problema evidentemente purtroppo non è stato risolto le persone continuano a scivolare a cadere ea farsi male ed è evidente che questo è un problema insomma che vada risolto perché dopo quasi due anni dalla prima segnalazione credo che sia arrivato il momento di intervenire in modo efficace grazie grazie a lei assessore campora prego grazie presidente grazie consigliere pirondini e sicuramente abbiamo fatto fare delle delle verifiche dal sopraluogo che è stato effettuato possiamo dire quanto riferiscono gli uffici che le condizioni della pavimentazione almeno nella maggior parte delle aree che interessano queste vie sono sono in discrete condizioni ci sono alcuni punti dove è necessaria una risistemazione una risistemazione puntuale è vero che in alcuni momenti soprattutto nei momenti di pioggia e quando il clima è particolarmente particolarmente umido si può formare del diciamo del muschio che si annida fra e sopra i mattoni antichi e questo diciamo può determinare può determinare può rendere il la pavimentazione più scivolosa detto questo daremo indicazione ad amiu di intervenire nel momento in cui si ci sia la necessità di rimuovere questo questo muschio che si forma sulla sulla mattonata e nel contempo gli uffici interverranno nei punti che dimostrano una certa criticità grazie assessore campora consigliere pirondini c'è replica sì grazie più o meno questa è la risposta che ho ottenuto due anni fa in cui si segnala che non è un pavimento rovinato non sono particolari problemi ma infatti io dico che è scivoloso non che sia rovinato e credo che semplicemente mandare amiu ogni tanto a togliere il muschio non sia sufficiente perché anche senza il muschio in quella in quella parte centrale della strada dove ripeto passano molti bambini molti nonni e molti genitori che appunto portano i bambini a scuola quando piove è quella quella parte centrale di mattoni rossi diventa praticamente una lastra di ghiaccio quindi siccome questa risposta uguale a quella di due anni fa nel frattempo le persone sono continuate a cadere io spero che il comune non voglia risarcire un numero così alto di persone che continuano a farsi male in quella via ma decida di intervenire in modo un pochettino più rispetto alla risposta che ho sentito oggi che ripeto è la stessa che ho sentito due anni fa grazie grazie a lei consigliere pirondini successiva interpellanza per l'assessore viale consigliere va a calibre ripristino e proroga ordinanza no alcolare in zona cornigliana lei la parola prego sì grazie presidente buongiorno assessore ma questa interpellanza mi è stata sollecitata da numerosi residenti di cornigliano che richiedono vista anche il buon lavoro dell'amministrazione la avviata riqualificazione urbanistica della zona anche la possibile riqualificazione sociale che non può esentare dal comprendere maggior decolo e sicurezza appunto della zona stessa recentemente il comune di genova ha rinnovato l'ordinanza no alcolare in alcuni territori cittadini come quello del centro storico ovviamente per contrastare il consumo e la detenzione di bevande alcoliche per le strade cittadine il 9 ottobre del 2018 proposi appunto l'anno alcol area anche nella zona di cornigliano e dall'epoca il l'assessore garassino tramite ordinanza delimitò appunto il consumo di alcol non nelle vie del quartiere via tonale via cervetto via melis corso perrone via perini via benedetti via della superba e via guido rossa via dove non si poteva appunto consumare la sostanza alcolica oggi visto che purtroppo il problema si è ripresentato a causa dei comportamenti che vanno a ledere appunto la sicurezza e la vività della zona soprattutto delle ville dei giardini penso ai bambini che frequentano i giardini melis e che devono giocare tra i cocci di bottiglie rotte chiedo appunto a questa amministrazione si ha intenzione di riproporre questa ordinanza in quel territorio e le tempistiche di attuazione grazie grazie consigliere vacalebra assessore viale prego grazie grazie eh io personalmente sono assolutamente d'accordo nel nel riestendere questa tipologia di ordinanza laddove appunto ci sia una recrudescenza di fenomeni che eravamo andati a contrastare con la stessa metodologia in precedenza quindi benvenga la una nuova ordinanza per Cornigliano io il penso che il testo sia già predisposto ovviamente ci interfaceremo con tutte le autorità competenti come del caso e poi la la sottoporremo al sindaco per per le emanazioni penso in tempi veramente brevi ovviamente ci vogliono i classici tempi tecnici anche per per allestire le le risorse e organizzare poi i controlli e la cartellonistica relativa eh anche bene pensare poi a livello consigliare eventualmente a a delle strumentazioni un po' più diciamo ordinarie eh nel contrasto al fenomeno del dell'abuso di alcol un fenomeno che ha avuto delle recrudescenze sul piano nazionale a fine pandemia e che ehm in alcuni in alcuni casi non può essere soltanto contrastato con eh provvedimenti di tipo amministrativo come quelli che possiamo fare noi ma bisognerebbe anche un po' andare oltre sia all'origine del fenomeno e poi con provvedimenti anche più pesanti su quei soggetti che magari la sanzione non la pagano e quindi continuano diciamo ad agire indisturbati eh detto questo che mi auguro appunto che la legislazione nazionale venga in questo caso in aiuto ai comuni assolutamente sì e dobbiamo predisporre una un'ordinanza anche per Cornigliano proprio per evitare il ritorno dei fenomeni citati dal consigliere grazie. Grazie. Grazie a lei assessore. Consigliere Vacalebre? Sì solo per ringraziare appunto l'assessore per l'impegno che si è preso eh per la risposta esostiva che ha dato che sicuramente sono sicuro ehm soddisferà anche i residenti del quartiere. Grazie. Eh passiamo ora alla successiva interpellanza consigliere Costa per l'assessore Garassino intervento di riqualificazione dello spazio verde in corso magenta nei pressi dei civici undici e venticinque. Lei ha la parola. Prego consigliere. Grazie presidente. Parliamo appunto di circonvalazione a monte nello specifico di corso magenta e in prossimità dello slargo che insiste sui civici undici, tredici, quindici, diciassette, diciannove, ventidue, ventitré e venticinque, sorge uno spazio verde recintato che un tempo ormai lontano era adibito a deposito dei serbatoi di acqua destinati alla funicolare di Sant'Anna. È una porzione verde che ha effettivamente delle potenzialità. È circondata da palazzi di pregio però versa in stato di forte degrado a causa principalmente della vegetazione incolta ma anche dalla conseguente presenza di rifiuti. È proprio a seguito di un radicale intervento di riqualificazione che auspico fortemente tale spazio potrebbe essere restituito alla libera fruizione della cittadinanza quale porzione di giardino pubblico. Pertanto chiedo con la presente interpellanza eventuali interventi già previsti o eventualmente da valutare al fine di riqualificare il sito in oggetto restituendolo quindi alla pubblica fruizione. Opposto alla problematica utilizzando lo strumento dell'interpellanza quindi ponendo un quesito che però di fatto ha anche una valenza propositiva. Valenza propositiva che ha proprio come fine ultimo quello non solo del ripristino del decoro urbano ma proprio della riqualificazione perché il fine è quello appunto di rendere fruibile come ho detto poc'anzi uno spazio verde che tra l'altro avendo dimensione limitata potrebbe essere facilmente gestibile anche dal punto di vista della manutenzione ordinaria. Grazie. Grazie a lei. Assessore Garasino, prego. Grazie Presidente, grazie Consigliere Costa. Dunque come diceva lei al centro della Iola Verde c'è la parte recintata che circonda il sedime di una cisterna interrata che risulta proprio in capo al patrimonio nostro. Da verbale di consegna di AMT al comune del 1987 si scrive un tempo utilizzata per la funicolare di Sant'Anna, infatti erano le vecchie vasche d'acqua che servivano per movimentare le due funicolari. Profonda 2,6 metri recintata con cancellata alta 1,20 m. Non è accattastata, risulta nel mappale stradale. È in gestione al Municipio 1. Sentiti in data 3 novembre 2021 la responsabile dell'area tecnica, signora Bruzzone, provvederanno a fare una pulizia con i fondi loro. Per eventuale utilizzo come area verde penso sia necessario un progetto e una verifica della stabilità e con ovviamente eventuale eliminazione della vasca. Però su questo bisogna sentire anche la sovraintendenza perché è un'opera antecedente al 1900. Quindi si può fare anche un progetto insieme al Municipio fermo restando se c'è la possibilità naturalmente dopo una verifica di stabilità e quant'altro. Grazie Assessore Garassino, Consigliere Cost. Sì, ringrazio l'Assessore per le risposte puntuali. Direi che in prima istanza un intervento appunto di pulizia e di per ripristinare il decoro dell'area è essenziale. Poi si può traguardare anche a medio termine un progetto di riqualificazione complessiva, quindi sinergia col Municipio interpellando la sovraintendenza e tutti i soggetti coinvolti proprio per appunto restituire lo spazio alla fruizione pubblica. Grazie. Bene, passiamo all'ultima interpellanza. Consigliere Crivello per l'Assessore Campola, prolungamento metropolitana, tratta Brin Canepari, Civici via Riosto 2 e 4. A lei la parola. Presidente, se chiedessi il numero legale è l'unica interpellanza che ne rimarrebbe penalizzata. Sì, sicuramente ci siamo. Sì, 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 sicuramente. Senta Assessore, il tema lo conosce bene, insomma è in più occasioni avuto modo di parlare e di confrontarci. Ricorda questa interpellanza all'ordine del giorno che fu approvata l'unanimità dal Consiglio Comunale il fine di giugno del 2021 e riguarda questa decisione un po' come dire, io penso un po' contraddittoria legata a una demolizione parziale di un caseggiato con un esproprio rivolto nei confronti di un civico e nei confronti del civico numero 4 tale esproprio non è stato perseguito. Allora, lei ricorderà che in queste ordini del giorno si vogliono capire un po' quali sono gli atti assunti in riferimento a quegli impegni perché si era parlato poi di una demolizione, la possibilità successivamente di collocare un giardino. Ricordo che lei propose oltre che al giardino, volevo sottolineare un aspetto positivo, lei propose oltre al giardino un parcheggio, un parcheggio in quella realtà dove sarebbe stato sicuramente e sarebbe tuttora utile. Si era avviato il discorso dell'utilizzo dei ribassi d'asta che erano mi pare attorno agli 8 milioni, il decreto Genova peraltro ne abbiamo più volte parlato, 85 milioni, già 35 sono stati destinati nel 2021, i 50 restanti, ecco è possibile pensare, perché mi pare che siano collocati nella finanziaria, è possibile pensare comunque di rivedere e in qualche modo si pone anche il problema del Pris, se attraverso dei finanziamenti andare a superare questa criticità, peraltro era una proposta che veniva anche dal territorio, dai comitati che lei ben conosce e con i quali interagisce, mi riferisco all'Associazione Liberi Cittadini. Quali sono stati, quali gli atti assunti in riferimento a questa questione del giorno votata da tutti? Grazie Consigliere Crivello, Assessore Campo. Grazie Presidente, grazie Consigliere Crivello. La questione è abbastanza complessa, una cosa che fin da subito abbiamo detto in maniera molto chiara ai cittadini è che all'interno del quadro degli espropri del progetto metropolitana non si poteva fare ulteriori espropri, sono state delle valutazioni tecniche fatte dagli uffici che hanno individuato una serie di appartamenti immobili, di fatto quelli che si affacciano su quello che sarà il rilevato della metropolitana. Quindi da questo punto di vista la partita degli espropri in sé, come ho avuto modo di dire anche ai residenti e ai condomini che ho incontrato, da questo punto di vista è chiusa. Detto questo, ritengo che invece si possa invece perseguire un'altra strada coinvolgendo l'assessore urbanistica, il collega dei lavori pubblici, Picciocchi e cercando di sviluppare un progetto urbanistico su questo che vada a reperire fondi al di là del quadro economico della metro che sono già un quadro abbastanza stretto, abbastanza striminzito perché poi sappiamo che questi progetti hanno sempre delle varianti, hanno sempre anche dei costi che non sono previsti. Quindi la strada credo che possa essere quella di un intervento, di una valorizzazione urbanistica dell'area attualmente occupata dal sedimi di via Riosto 4, via Riosto 2, non c'è più che la parte che è stata demolita, è stata demolita devo dire anche dell'impresa in maniera molto molto attenta, possa essere quello di valutare un progetto di valorizzazione urbanistica che abbia come obiettivo la demolizione dell'edificio, creando poi il posto dell'edificio quello che poi si riterrà più opportuno. Credo che questa possa essere alla strada e che si possa attivare in particolar modo con l'urbanistica un percorso che vada in questa direzione tenuto conto anche delle grandi trasformazioni a cui sono soggetto tutti i quartieri che gravitano intorno alla metropolitana e anche al peso comunque di tutta una serie di cantieri che sono in essere o comunque in itinere e che impegneranno alcuni siti per molti anni. Quindi questa è la strada che individuo, credo che potrebbe essere anche utile anche magari iniziare a parlare di questo, l'abbiamo già fatto anche con i colleghi assessori e che anche con i comitati e anche col Presidente del Consiglio Comunale potrebbe essere utile magari fare anche una commissione con le persone dove in qualche maniera si possa dare forza a questo percorso. Dopodiché è chiaro dovranno essere individuate le risorse ma deve essere un percorso che va oltre il percorso già chiuso di fatto degli espropri che sono già stati portati portati a termine. Io individuo questo come possibile via per arrivare a un risultato che da una parte risponderebbe a delle esigenze di alcuni cittadini non espropriati, dall'altra io dico risponderebbe ad un'esigenza più ampia e più grande di interesse pubblico che può essere quello di avere maggiori aree a disposizione per i residenti o per giardini, per parcheggi sapendo che le aree sono assai limitate in quella zona e tenuto conto che alcune aree poi verranno occupate in particolar modo dalla stazione di Canepari. Grazie. Grazie Assessore Campora, Consigliere Crivello. Assessore io facevo riferimento a un ordine del giorno che è stato approvato da tutti, da tutto il Consiglio Comunale dove si chiedeva di valutare la possibilità che la procedura è spropriativa anche perché e concludo come anche nella discussione di ieri in Commissione su Veggino si, nel corso dell'opera, io credo nella buona fede di tutti, ma si vanno poi a riscontrare delle scelte che sono forse anche, non dico contraddittorie, ma forse non congeniali alle opere del suo complesso perché in alcune realtà vivere proprio sulla soglia bene che si possa pensare a degli spazi fruibili da tutta la comunità e credo che sia una risposta parziale però per questi cittadini. Quindi se ci fosse ancora la possibilità di un ragionamento legato al PRIS o ad altre situazioni credo che sarebbe una risposta non certo risolutiva per loro ma parzialmente utile. Grazie. Grazie a lei, abbiamo esaurito tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, quindi ringraziando come di consueto tutti gli uffici tecnici e collaboratori che hanno cooperato anche per la realizzazione di questa seduta di Consiglio, do appuntamento a martedì 9 novembre per una nuova seduta, vi ringrazio, buona serata a tutti. Grazie, arrivederci.